Buonasera ragazzi benvenuti con una puntata di rocket quindi oggi andremo ad affrontare le prove settimanali e le prove anche mensili quindi come come com'è allora andiamo a vedere sfide quelle ok ok benissimo allora ok ecco qua ragazzi per un attimo la chat vedere se c'è qualcosina di idee o subito così allora vediamo un attimino intanto dopo in un attimo la chat ragazzi quindi datemi un attimo di tempo oddio cos'è la meclare ma cos'è leggi di più intanto poi aspetto jack che vedo le prime leggiamo un attimo assieme la macchina allora allora leggiamole subito le sfide sono oddio c'è anche no c'è il carri a tre esigui 15 tiri in porta vabbè partito la questa vabbè questa easy esigui 25 spazzate e vabbè anche questo 15 partito online 3 titoli di mvp in partito online usa la chat mia e ottieni un primo tocco dopo il calcio d'inizio ok 15 partito online vabbè questa la posso fare in una partita privata credo che si può fare tranquillamente così ci provo quindi proviamo un attimino a far questo oh grazie del raid ciao come va non ho visto le sfide di area 3 ma ho visto quelle di sfide normali buonasera 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 comandiamo e quindi sono un po' un po' così queste quelle settimanali ce la caviamo in una serata due abbiamo finito quelle di area 3 dopo le guardiamo quindi vediamo un attimo se si si vai tranquillo vai vai sereno allora la prima è mia e poi fare il tocco primo quindi ciao ele ciao 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 no come partita annullata cornuto ciao manuela vabbè facciamo ancora questa porca vacca allora la prima bisogna fare mia e poi il primo tocco quindi speriamo di farlo in quello da solo giusto per fare la sfida mia lo sta spaccando ma veramente è da un bel po' guarda è anche gratuito quindi se ce l'hai lo puoi scaricare puoi giocare anche con quelli che hanno epic quindi se vuoi te lo puoi scaricare e puoi venire a giocare con noi se vuoi se vuoi se vuoi possiamo puoi entrare nel nostro bel clan è divertente è molto divertente però ho giocato con la gente è pure gratuito si esatto ed è crossplay cosa che non è una brutta cosa quindi le devo guardare ho paura solo a guardare ora dopo le guardo ho fatto queste qua la prima che devi mettere mia e poi fare il primo tocco e quindi l'ho fatta come sfida penso di averla fatta si si con tutte le piattaforme certo certamente quindi anche che uno magari ce l'ha dal pc può giocare con te magari non può giocare in parti però si si può giocare assolutamente quindi è molto carino almeno in gruppo è carino si si abbiamo il clan dai pensiamo anche per piede provo a scaricarlo si si ma guarda poi se vuoi giocare tanto io tutti i mercoledì lo porto quindi abbiamo le sfide settimanali con le mensili ti puoi prendere anche le macchine le cose in più questa stagione va fino a marzo se non mi sbaglio quindi poi si si puoi tranquillamente assolutamente puoi puoi serenamente proprio appena arriva jack city ti invito se ti invitiamo nel gioco nel gioco magari in parti no perché ho già mal di testa quindi non voglio altre voci oltre la sua perché almeno lui parla piano però in gioco puoi venire tranquillo tizio appena arriva lui perché io non sono buono e non ho voglia di cercare oggi oggi ho mal di testa come ieri vabbè non so se sono un po' influenzato va bene sì sì non so se sono influenzato vabbè vabbè tanto sono qua guarda tanto non mi muovo ma sto tutto cornuto no ma poi sì 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 vabbè eh sì i parti eh no ma io proprio no ma i parti proprio non è che sono un fan dei parti troppo infatti già 3 è troppo già 3 risulta troppo in 2 in privata ancora ancora ma il live è più di 2 non no perché siamo veramente sì sì è vero sono delle ricompense ora poi dopo andiamo a guardare e puoi trovare tante cosine belle poi se puoi giocare con gli amici guarda è meglio è una buona cosa questo sì sì guarda se ti interessa lo trovi lo trovi è gratuito lo puoi scaricare e non pesa troppissimo mi sembra che è una ventina di giga se non mi sbaglio se non erro sì sì va bene se non mi sbaglio è una 25 però comunque guarda poi poi faccio sapere che nel caso vieni a giocare aiuti tutti i organi sì 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 vabbè quello sì ma io non gioco sì sì ah beh guarda dopo mezzanotte sì ovvio ma penso anche warframe è gratuito se ti interessa il genere fantascientifico alla definice warframe che è bello forte anche noi ci giocchiamo a quello tanto sto vincendo strano sto vincendo poi ho fatto mia quindi il primo tocco l'ho fatto vediamo questo olè parata ho anche le parate vedete io sono bravo con le parate ma non sono molto bravo con gli assist per esempio gli assist per esempio ne è che sono un fan degli assist per esempio però questa invece è la modalità singola uno contro uno che c'è anche un po' in competitiva ma sotto tutti i livelli insomma oddio in compagnia non è male sto gioco ecco non è male in compagnia però se c'è qualche problema poi vediamo se possiamo aiutarti nel caso che hai bisogno di salire vediamo un po' però per adesso sto vincendo anche una sfida singola alcuni sono veramente fortissimi ma queste cose le faccio solo quando mi serve magari un trofeo una sfida e allora faccio queste singole perché a me non piacciono proprio quelle singole non sono fatte per me queste cose preferisco sì sì guarda quando vuoi a disposizione guarda tutti i mercoledì escono le sfide settimanali le cose che devi fare per avere magari di per sbloccare per andare avanti magari nei livelli però tu essendo premium ce n'hai di meno di noi non premium ce n'hai meno di noi un hard disk esterno devi chiedere a jack non l'ho mai utilizzata so che ci sono quelle per la ps4 ma devi chiedere a lui perché io non me ne intendo questa roba solo ho il mio e basta però hard disk credo che ci sono proprio quelli per la ps4 perché io ne ho visto in giro che diceva appunto hard disk per ps4 però non ti so dire in realtà come funziona penso bene perché sennò non penso che l'avrebbero messi però perché alcuni hard disk per pc che ho io provatamente sulla play ma ti dice che non li leggono però guarda guarda che culo ha questo è un culo di rimpalli che poi anche io faccio che perdo vediamo se riesco a intercettarlo parata mamma mia che culo via vai via stupido vai via mamma mia tra me e lui non so chi è peggio dopo la sfida di scarsio fatene prendi 4 senza problemi 4 eh vedi si te c'hai no no io non ce n'ho hard disk per la play quelli che ho per il computer non vanno per la play infatti mi dice sempre non supportato quindi bel casino poi vedi hai tutte le cose le sfide settimanali eccetera quindi io personalmente non l'ho comprato ancora gli hard disk per ps4 per il pc ne ho tre tipo ne ho tre per il computer quelle mi servono sempre di bruciare aspetta che ora ti leggo ti leggo la mela no 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 ci sono magari quelli per la play magari gli altri che non li supporti io personalmente ripeto quelli del computer e non me li legge mi dice proprio non supportato poi non so allora qua la prima è andata la prima sfida è andata perfettamente prima vittoria sbloccato il livello abbiamo delle ruote brutte tra l'altro brutte possiamo uscire perché la prima l'abbiamo fatta ora leggiamo quelle di area 3 che saranno secondo me non saranno molto interessanti secondo me devo provare basta esatto abbiamo ecco le sfide che tu avrai perché non hai il premium sono le prime 3 cioè cioè scusami quelle blu diciamo quelle verdi cioè quelle che ho fatto io adesso no perché non sei premium mentre io già si quindi hai e poi ci sono queste qua di area area 2 che tu avresti solo queste blu quindi gioca 60 partite 50 partite online esegui un assist e vince nella stessa partita aia questo già bella inculatura 20 partite di qualsiasi playlist 75 spazzate 35 parate o parate epiche 10 titoli di MVP poi vinci con 2 e più gol di vantaggio in 5 partite aia queste sono pesanti però tira o bel tiro tira o bel tiro ok non ci ho detto là 80 spazzate 400 punti tira o tira ok e vabbè facciamole ragazzi facciamole con calma tira ok quindi abbiamo un po' di roba da fare fino a marzo c'è questa stagione quindi abbiamo da fare fino a maggio a marzo scusate poi c'è la stagione nuova e si azzerano i progressi fatti ecco eh però mettiamo un po' questa ok tira fai è 1 ok ho fatto tira ma in realtà è solo per sbloccare la prova ok questa invece è la quella 3 contro 3 che possiamo giocare anche con le persone quindi se siamo in 3 possiamo farcela tranquilla una sfida in 3 oh già attenzione già mamma mia troppo questi qua segnali attenzione oh c'è solo alcuni che sono veramente fortissimi altri per fortuna sono molto scarsi quindi anche noi riusciamo a giocarcela già questo vediamo se mi dà l'assist no oh vai gliela butto ancora dalla loro parte ok vai quindi ancora qui riusciamo a cavarcela poi ci sono i punteggi quello che tu riesci a fare con l1 con l1 se non mi sbaglio l1 si l1 vedi sono tutti i punteggi squadra blu ecco già ci segnano infatti non avevo dubbi che i miei compagni non fossero delle cime vabbè perché poi c'è una sfida che ti dice fai un assist e vinci la partita questa questa è un po' magari poi la sblocco senza pensarci però abbiamo ancora del mese scorso che devo fare 150 assist e al momento sono a 102 assist ciao alex sento parlare di cime e ho detto che i miei compagni non sono delle cime o sono degli idioti quindi sicuramente non che io sia sa cosa però come va tutto bene maniera bellissima comunque è di un paese democratico certamente potevo anche mettere quella dell'Italia ma avevo paura che effettivamente i livelli di di democrazia non sono a livello della Corea bella spia beh poi c'ho la corona in testa cioè corona e bandiera e bandiera della Corea sì sì visto e bandiera della Corea vediamo se riesco a fare gol uh che gol ragazzi avete visto pazzesco eh roba di un certo livello mamma mia vediamo se i miei compagni riescono a recepire degli assist cosa che mh vediamo se riesco uh mamma mia questo mese è un po' un po' una rognatura area 3 non è proprio il massimo poteva essere uh ecco vediamo se si affidano a me questi per segnare siamo messi male eh perché non è che sia fortissimo eh sì sono buono ma non sono neanche non sono neanche un un scarparo però se lo fanno loro qualcosa ecco tipo adesso magari bravo che l'ha buttata in alto però è già buono come pensi Jack che siete ah sì cavolo speriamo che sia di qualche livello buono sia proprio una ciofeca quando è che si sarebbe trasformato in super stendere cavolo sta qua me la sono persa ecco vabbè ma è questo però è una botta di culo che ragazzi non sanno neanche loro come hanno fatto ne sono madonna io oggi ho comprato una roba sto comprando una roba per PS3 adesso quindi poi mi sto scatenando a portare i giochi PS3 roba davanti ah ok non lo sapevo ecco qua vai si scatenava la PS4 con la PS3 la PS3 sto comprando della roba sto recuperando piano piano anche con l'Xbox che avevo comprato l'Xbox 360 sto recuperando qualche buon gioco e poi poi li porto con PS4 eh perché non ho voglia di spostarla se no l'avrei già spostata che avevo della roba che volevo portare in live però vabbè chissene forse un giorno la sposterò chissà forse un giorno però devo andare ancora a recuperare in questi giorni penso un po' meglio vado a recuperarmi qualche gioco ancora della 360 che ho visto 5 euro qualcosa della PS3 che ho visto che è interessante eh non lo so vediamo appena sto un po' meno sono due o tre giorni che non è che stia proprio in formissima non so diciamo un po' di mal di test secondo me anche un po' di fluenza secondo me appena ho un po' voglia appena ho voglia vado lì compro un paio di giochi oggi ne ho selezionati 3 o 4 no forse anche di più se ne sono salvati se ne sono salvati 2 tipo 2 o 3 uno sembra destini veramente tipo futuristico però l'altro è è dragon è dragon dogma che sembra interessante non so come sia però sembra così a vedere due ne avevo selezionato un altro diventato free to play ah si ah bello è quel battle royale si si ho capito qual è ma ce l'ho qua sulla 4 l'avevano dato sul plus da da evitare secondo me i soliti battle royale schifosi si si lo so e quello poi in realtà ho avevo adocchiato soul calibro 5 interessante il solito picchiaduro della saga forse avevo trovato qualcosa si si esatto esatto si si ma me lo ricordo infatti l'avevano dato gratuito io però non l'ho provato una volta il tempo di scappare da quel gioco e basta ovviamente non l'ho ah ho fatto due asset aspettate forse c'è sblocco anche l'altra wow però non però non è una volta sola magari lo di aria tra ok vai mi ricordo mi ricordo e quindi stavo dicendo ho preso one piece oggi il primo sono tentato da altri giochi mi sto un po' raccattando piano piano anche roba di ps2 visto che li posso portare quindi easy proprio oh cazzarola aspetta 3 vp pronto ok sto un po' recuperando stavo perché vedo che il retro piace più che altro per il gusto di avere giochi retro e poi sto un po' provando quelli che magari tipo Dante Inferno che volevo recuperare ce l'ho e Dragon Dog mi ha messo in baccarino per 360 poi magari è uno schifo uno che si chiamava Rogue Pirate 3 ma non mi sembra proprio adatto Soul Cabrio 5 mi sembra carino mi sembra al solito picchiaduro niente di pretenzioso poi poi in realtà poco altro c'era uno che è un RPG però ma scusate anche Jack ha detto che è un po' pesante quindi penso di non prenderlo perché è pesantino e non sia Mike poi vediamo poi qualcosa di PS3 sicuramente recupero da qualche parte poi devo ancora prendere roba di PS2 però vediamo adesso vediamo un attimo molti sono ai mercatini quindi riesco a raccattarli tipo GTA 4 l'ho preso a 5 euro per 360 prima o poi lo porto c'è un bel Dynasty Warriors set da portare per Xbox ce n'è giochi interessanti oggi li ho anche visti però ho dovuto un attimo vedere c'è uno che sembra Syndicate che sembra veramente Destiny roba poi diciamo che la storia diciamo completa è di 4 ore quindi neanche dice oh mio dio tantissimo è quella roba futuristica alla Destiny un po' come piace a me ma però gol però vediamo 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 un attimo o poi magari dico così poi non compro più niente devo vedere per mercantini devo passare in rassegna mercantini oltre che i film devo passare in rassegna anche i giochi di solito vado in uno di fiducia ma quello di fiducia ho già prelevato roba e sto aspettando qualcosina di PS2 a gusto retro ho lasciato un attimo lì il buon Prince of Persia perché secondo me è da cristare oh vediamo altro gol mamma mia tre gol miei mamma mia è pazzesco oh via vai via domani giovedì quindi abbiamo Red Redemption cavolo quello dei zombie domani abbiamo Red Redemption zombie signori quindi andiamo avanti speriamo che non è buggata ancora con la mission oh madonna sono strabuggati io non capisco bisogna sempre ricaricare il gioco uscire e rientrare mamma mia guarda che palla ma comunque è bello anche Red Redemption interessante come gioco non è il male assoluto oh le vai 4 a 1 comunque 4 gol dei miei fossero tutti così gli avversari ragazzi sarei contento e poi per Xbox poi vediamo poi sicuramente c'è qualcos'altro perché mi sono perso oh le e 5 madonna sto continuando a a fare roba 5 5 gol si sono ritirati buona cosa ok vediamo cosa ho sbloccato se ho sbloccato qualcosa 15 tiri ottieni MVP 10 ok ok posso andare avanti sono ritirati tutti no merde che merda che merda che merda ragazzi dai però se riusciamo a andare vediamo vediamo eh si si va bene ah quelle di area 3 guardate perché secondo me sono un po' rognose ciao alex ciao alex ciao 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 eeeh guardate quelle di area 3 Jeff secondo me questa volta ce n'è una che mi sembra che devi fare un assist e forse vince una roba secondo me c'è della roba rognosa però come al solito però non ci sono i canessi guizzanti ma almeno quelli eeeh è uno dicevo che stavo passando i rassegni a tutti i vari mercatini cose giochi cose di giochi eccetera infatti poi prossimamente passo i rassegni ancora roba perché c'era quel gioco white chronicle 2 quella roba lì però il gameplay non mi ha convinto particolarmente dico la verità non mi ha convinto proprio eeeh mi ha convinto più dragon dogma mi ha convinto di più eeeh ovviamente si sono presi dead or alive 5 ma c'è solo calibro 5 ma non lo so vediamo c'è un virtual fighter 5 ma siamo sempre lì giochi di picchiaduro non so quanto sono fattibili poi c'è un syndicate che sembra una roba di destiny sembra destiny e anche lì può darsi che lo non lo so può darsi che lo prendo come no dipende dipende eeeh poi poi vediamo eccolo qua allora andiamo un attimo a prenderlo scusate vediamo se eccolo qua bon jack buonasera eccoci ecco no dicevo dei giochi se che non ero convinto neanche io di quei white crow cioè meno male che me l'hai detto che è un po' pesantino ma è carino ma è un di quei giochi che allora i tempi di caricamento da una schiamata all'altra che secondo me tutti già già lo butti dalla finestra dopo 5 minuti no era per portare in live no portarlo in live non te lo consiglio tempi troppo lenti è un gioco breve un rpg da 20 ore non è tanto lungo però è una pesantezza è bello è bello come trama è molto giapponese anche se poi è più inglese è tutto tranquillo comunque è tradotto in italiano però secondo me veramente c'è un altro che si chiama sindacate che è tipo destini questo non lo conosco sembra destini ha solo 4 ore di gioco di storia poi sarà tutto cop 5 euro poi c'è un solo calibro 5 che ho visto che è da quelle parti lì ma non lo so sub no non c'è no poi c'è no c'è un un virtual fighter 5 buttato lì buttato lì ma ce l'abbiamo già ce l'ha regalato sbaglio o ce l'ha regalato esatto esatto e poi c'è un dragon dog ma che sembra interessante per xbox dragon dog ok sembra interessante dragon dog ma sì sembra molto interessante sono d'accordo non ho avuto ancora la possibilità di giocarlo ottieni 10 titoli di mvp ma cos'è è carino però che cos'è ottieni 10 titoli di mvp ma poi cosa vuoi anche una fetta con limone beh io sono già due però adesso non sarà il top adesso stiamo perdendo adesso insomma di questo c'è salvato due c'era un altro gioco che si chiamava e il shaddai di gioco ah aspetta è tipo quella frase la che si urla ah no non lo posso dire quella ah che male al piede no 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 ah che male al piede beh se può dire no non è nulla di illegale non è nulla di illegale ok eh vinci con due più gol di vantaggio cinque partite beh se può fa se può fa esegui otto primi tocchi no esegui tiro bella giocca 8 primi tocchi ah si quelli li fai tutti in coso uno contro uno si si esegui 80 spazzate no vabbè ma non sono tantissimi 35 parate per te sarà una cretinata per te ne ho fatto tipo 4-5 no dai i vipi una settimana faranno i 4-5 poi ci sono le 25 spazzate in settimana 3 mvp no mia no mia che brutto mia dire mia c'è anche tira nelle cose da fare 10 volte ho bel tiro io ho bel tiro abbiamo bel tiro comunque invitavi tu dopo la partita così e quindi c'erano un po' di giochi così però alcuni ho fatto bene a chiedertelo perché no why night secondo me non fa per te c'era un gta liberty city no liberty city stories è come il 3 m'ha fatto un sold portatile però il 3 è un bellissimo gioco il 3 stiamo perdendo è divertentissimo è difficile è divertente però è difficile però è divertente è difficile è divertente in realtà i giochi poi bastano li ho un po' visti ma ho detto prima li prendo in esame a vedere se c'è qualcosa ma poca roba o vado sul calibro 5 dragon dogma potrebbe anche essere è un synnacate oppure sub ninja oppure sub ninja sub ninja no e oh le 4 e 4 e quindi bisogna vedere secondo me potrebbe starci ci sta ci sta ci sta fatelo la sto vedendo la partita mica male mica male veramente è ancora un minuto e 40 ma c'hai voglia proprio che finite c'hai voglia bisogna vedere se non subiamo altro attenzione sub no 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 ciao ragazzi comunque dai abbiamo convinto Emanuele a scalcare altra altra nuovo acquisto di scarpe di gomma non è possibile 4 e 5 dai voglio vedere intanto se Lady Ripper mi sembra che sia unita no al clan buona mamma mia che potenza si si c'è ragazzi siamo sempre di più in scarpe di gomma scarpe di gomma e non delude e non delude l'aspettativa io sono andato io esatto io sono andato in loop ad ascoltare allarme allarme ah non si può dire la c'è una parola ma l'allarme è in loop sono andato in loop lo mettiamo? no sono andato veramente ad ascoltare comunque anche nella PS2 ci sono dei vecchi Smackdown vs Raw io c'ho quello del 2006 2007 e a 10 c'è quello ancora prima quelli vecchi vecchi proprio però vediamo vediamo se riesco a prenderli ma si c'è comes the pain che è un capolavoro ma quello in inglese vabbè ma cosa c'è in inglese sono tre righe tre parole ma non ci capisco cavolo ma si ma fidati quello non c'è però ai usati non è che dici è considerato il migliore ce l'abbiamo la valchitia vabbè d'alco stacco e stacco esco dalla partita dalla partita invita me e te invito invito i jack e jack invita te perché io non sono buono a invitare va bene d'alco va benissimo si d'alco dovremmo vederlo ma lo vedo è online se si posso invitarlo senza problemi 5 a 5 oh porca visere ma che sono un sacco di sfide da fare comunque dragon dog ma a me mi ispira un sacco mamma mia se mi ispira mi ispira secondo me è tipo un scari sembra sembra una roba fan alla dragon age anche se magari magari poi è meno bello no vabbè ma 6 a 5 dai non è possibile però è una bella partita finché ci sono assist e goal tu fai tutto quello che devi fare ah si assist 0 gol 2 però ho tirato ho fatto vabbè anche i gol sono da fare ho fatti prima gli assist per area 2 assolutamente hai finito area 2 hai finito area 2 no ah si vabbè ti invita jack quando io io mi dico in party posso iniziare a invitarlo io si si ma sei su playstation giustamente penso di si che si si lui darà play certo abbiamo perso ma non male abbiamo perso la voce del darkorone ecco penso che si è invitato allora io ho sbloccato qualcosa no ho sbloccato una mazza ora invitiamo jack ciao darkor buona serata eccomi qua come va bene si tutto a posto voi ma dai tutto a posto allora vediamo se c'è jack e dal non sono nascosto a te sei ben nascosto quando meno te l'aspetti e anche dal oggi comunque veramente non posso far spoil ma clà cavolo mi aveva detto una cosa sulla dimitrescu occhio che quella ma c'è no 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 era giusto non era tutto quello addirittura allora esegue un assist e vince la partita l'ho fatto quello di area area 2 ho mandato a tutte e due non so se io ho mandato l'invito a darkorone si si sto caricando il gioco allora ma posso mandare gli inviti anche se clare leader che figata comodissima ma certo non sapevo nemmeno l'abbiamo scoperto oggi area 2 sempre democratica bandiera del nord corea 103 la democrazia con la lì con la corona corona e democrazia e bandiera coreana ma porca miseria devo aggiornare ah lo devi aggiornare no 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 aspetta 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 forse è partito no vabbè parte ma non ti fa entrare se non ha eh ci vuole un po' non è tanto a scaricarlo scaricarlo è veloce è un po' di installa che impida una vita veramente eh ma non faccio voler mi sembra oh se li ha fatti non ne so neanche a colore io ho fatto io facciamo una partita noi mentre aspettiamo per troppo paura che ci vuole tanto la facciamo noi poi mi pizzica si 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 ci vuole un po' quanto ci vuole vabbè fa niente raga a me ma tanto ti aspettiamo stai in parte con noi stai in parte con noi si 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 sto qui 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 a parte ti ho visto che portavi qualche dopo ho fatto nei titoli delle live tipo ieri quello che ho portato ieri ma è cortissimo l'ho finito in due sessioni ma si chiama davvero Aloy la protagonista anche lì? no ah l'hai chiamata Aloy falsa si perché quella quella di Horizon era Aloy vera quella è Aloy vera assolutamente questa è Aloy falsa che era sempre una ragazza dalla chioma fluente quindi ma tu sei anche un grande fan dei giochi di ruolo anche quelli occidentali mi pare di capire che ti piacciono tantissimo come genere tipo Skyrim che studiati qua Elder Scrolls Elder Scrolls è la mia saga preferita buona i giochi di ruolo sono il mio genere preferito preferito anche per me non si direbbe a volte perché difficilmente li porto in live perché il coinvolgimento di quando tu tipo mi metti a grindare per ore è una cosa che in live non puoi la gente cioè diciamo che la gente ha la pazienza limitata e se mi metto a fare le mie grindate da 3-4 ore così a rilassarmi a prendere bottino mi dico ma che basta a me si lamentavano perché portavo Skyrim perché ero fermo dovevo fare cose però oggi ho superato il mio record di zona dove sono rimasto più bloccato a lungo un'ora un'ora nello stesso punto ma diciamo che in generale io amo l'immersione eh dai immersione lo dico sempre ma Skyrim è cavolo è immersivo cavolo si si ah ti saluta Ede dalgo si ti saluta ciao Ele ciao Ele ecco ti ti vedo ti vedo ma anche fallout in realtà questa cosa immersiva solo che magari fallout è sempre Bethesda come Skyrim è sempre Bethesda si no dico è immersivo uguale più o meno bello Jack ha messo l'emotico è il pinguino è il pinguino dei longhi quello lì oh non ce l'ho fatta sembra un gufo calvo sembra un gufo calvo sembra un po' il ministro Bruno ah no non si può dire no cioè io io lo posso dire anche gli insulti relativi insomma quello l'abbiamo ho capito chi di chi si tratta ma io ho detto ho detto il suo nome in live durante Red Redemption Zombie e ho sparato uno zombie dicendo che era lui direi che direi che sono segnalabile la tua live io di sicuro non ti segnalo no lo so ma guarda mi sa che qualcuno mi stringe pure la mamma e dice c'hai ragione quindi quindi questo un po' di raccattando un po' di giochi della PS3 ora che c'ho la PS3 sto raccattando roba anch'io però con la scheda ti avviso che alcuni giochi potrebbero dare problemi di uscita audio abbiamo la stessa scheda io se vado ad esempio sulla Metal Gear Collection alcuni giochi di wrestling possono avere problemi su quei tre e One Piece? One Piece non credo ma io non mi faccio saperlo non ce l'ho One Piece dovrei provare uno a uno e vedere quando sei in output se ti fa un rumore fastidioso alza il volume della tv che non è collegata alla tv però va bene ah beh allora va bene collegata al pc va bene tolgo l'audio e mi metto il mio audio e parli te in giapponese no ma dai One Piece non avrà il problema secondo me non so perché dicono che è una questione di uscita audio non so perché ce l'ha Metal Gear ce l'ha il 3 Metal Gear appena entri nella collection fa un suono acutissimo il video oh le all'è eccolo là eccolo là eccolo là mamma mia guarda che roba io e là stiamo facendo gol opla guarda che roba non so neanche cosa il nostro compagno ci fa gli assist che è grande anche lui c'ha la sfida e quindi ora ti ho detto il prossimo obiettivo è Dragon Dogma che l'ho visto che non so però a me ispira a 5 euro non so magari Dark te l'hai giocato non lo so purtroppo no ma non mi dispiacerebbe sai assiste tu 360 poi un po' quadro da quel che so devi combattere i mostri con una certa strategia ecco già iniziamo ah si il mio strategia è essere presi a spadate tutto il team quella è la mia strategia quella lì andarci proprio di carogna e sperare si diventare una cara di resistenza con te insomma si esatto beh lui ha la strategia del menarli finchè non vanno giù la sua strategia ideale quella esatto lui è un berserk e beh in Skyrim ho già dato prova dico il Resident Evil sta usando coltello arrivi i nemici ma io ripidio coltellate tra l'altro io ho provato anche le mod perché puoi scaricarti le mod su PS4 alcune mod sono carine altre sono veramente un po' così ah quelle di Skyrim si si è vero cavolo una è bella è sotto perché poi ti devi trovare la chiave per aprire il pozzo di Winter mi sembra che c'è il drago sotto che è bella con la run lì eh sì ovviamente ci sono andato lì a martellate il drago l'ho preso proprio vai 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 butta 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 no è gol è gol è gol un minuto e quaranta dai arrendetemi bravo arrendetemi vi lasciatecela un po' lasciateci giocare ancora un po' secondo me ora si è il tiro vedrai ma no e vediamo ho detto ora sto rastrellando tutti i mercati tutti i negozi di giochi che hanno roba la ps3 ma il finder fiota te lo sei poi preso il finder fiota sì certo ce l'ho qua lo devo vedere ma come si chiama buh super cafone no non penso no 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 è cosa del jaguaro mi sembra come il titolo si la mossa del jaguaro me lo ricordo non lo so com'è ma so che non ce l'ha nessuno nelle collezioni dvd c'è un motivo che non ce l'hanno però 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 volevo essere ma dai hanno pure le ciofeche che a volte la gente colleziona pure le ciofeche che non è che colleziona solo i figelli ma va bisogna avere anche i cessi magari io di otopi ci farà qualche qualche video io molti film di otopi ce l'ho ce l'ho o li ho visti ma che stroncando l'orrore ti pia veramente bruttissimi schifosi sì sì mi piace però un film recensito da stroncando l'orrore che c'era un film con Gesù ammazza vampiri ah Gesù Christ Vampire Hunter sì 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 ma l'ho visto quello lì era brutto ma è fatto coi piedi poi c'era Troll 2 che lo vendono in un cofanetto insieme a Troll 1 su Amazon vendono a 20 euro no non ha senso Troll 2 no ha senso ha senso in inglese per sentire oh my god non ha senso se non per andare in bagno lo so ma ha senso è diventato un meme per quella frase quel tizio che con zero convinzione legge lo script e dice oh my god wow che convinzione il primo il primo è il primo è anche carino il primo troll non c'è nulla con il secondo è veramente bello l'ho anche visto il primo è vero il cofanetto purtroppo costa 20 euro con tutti e due i film mi toccare appena tutte e due ciao no non c'è ciao sono io faccio io infatti lo dici tu abbiamo vinto anche anche lui hai vinto l'nvp di pochi punti porco cane per pochissimo non lo vincevo io tanto così sei stato più bravo sei più bravo la settimanale mi sa che l'ho fatta una ma le live a tema horror invece finite? no no non sono finite ma è finite si riprende il fatto che adesso ho un problema di caldaia che la sera devo spegnere presto quindi la sera per me sto dentro è impossibile fare live altrimenti si ibernage no io se apro l'acqua calda mi si incricca la caldaia quindi io ti dico io devo lavarmi assolutamente speravo fosse indipendente dalla caldaia sai che mi è venuto in mente quando hai detto che Jack si iberna si demoni con me eh no c'è qualcuno che si chiamava Jack che alla fine del film si iberna oh ma si ma quello schiatta proprio completamente beh quello non è proprio quello non è proprio il massimo ma comunque avete capito di che film si tratta strano che non ci hanno fatto un gioco sopra beh ci sono in realtà mi ha detto Revil che c'è Titanic VR cioè non è sul film ma è l'esplorazione in VR non è un gioco no no io parlavo proprio di giochi è un gioco assolutamente è un gioco insieme a gente le opropa scelte tipo se sbagli muori prima se fai bene butti lei in acqua e muori lo stesso no io farei così che se fai giusto lui butti in acqua lei ma non puoi è la daratrice è la daratrice non puoi ragazzi voi l'avete visto dimmi davvero voi l'avete visto Ready Player One si no sono stata no non so non era quello no no quello là scusi me l'ho confuso per qualche stana ragione con Pixels che a me è piaciuto stranamente non Pixels sì anche quello è bello però mi riferisco proprio a Ready Player One no dove c'è praticamente questo immenso universo virtuale che si chiama Oasis che è praticamente dove la gente si incontra lì dentro va a giocare va a ballare va a comprare va a fare tutto lì dentro no mai la cosa bella è che Pixel più che altro è un grande omaggio a cose che noi negli anni 80 noi nati negli anni 80 ci siamo goduti da Pac-Man a Q-U-Bert a tutte quelle si a voglia oltre a riferimenti un po' più moderni comunque riferimenti più moderni però Ready Player One è vedetevelo che vi giuro ne vale la pena oltre che è pieno zeppo di come si chiama di easter egg eh si credo ma per caso so se c'è su Netflix su Netflix credo di sì ah beh se si sta su Netflix su Netflix intanto cambia tolgono le cose del catalogo e anche Amazon non è che Amazon non le toglie toglie anche Amazon l'altra volta ha ficato tipo 50 film ma ha tolto un sacco di roba io quando guardo una serie che mi è passato su Amazon e poi me le togli no non togliamela non togliami Supernatural ma buon ciao ma la cosa che era successa con Sons of Anarchy che poi era anche su Netflix quindi poi l'ho finito sta ancora su Netflix mi sa Sons of Anarchy appunto ero arrivato alla cosa 4 e ho detto accidenti poi io poi l'ho recuperato in via alternative che ora è mia la serie quindi haha però all'inizio ho detto ma cavolo non riesco a vederlo poi vado su Netflix e c'era anche su Netflix ho detto ma sì e l'avrà comprato ok si tolgono i diritti e spariscono da una parte e dall'altra il bello di avere Disney certo perché se li compra sì erano in tutte e due le piattaforme insieme nello stesso momento il problema mio è non avendo il Now ma a parte che il Now fa schifo come servizio il Now ti fa partire quello di Sky il Now ti fa partire un servizio esterno e spesso si incricca e i dispositivi spesso non sono sincronizzati fra loro è una è uno schifezza il Now quello avevo fatto il mese quello che avevo pagato un euro ma poco cani se lo gestivano un po' meglio guarda ci facevo un pensiero per rinnovarmi ogni tanto ma non puoi con una cosa che ti va su PC e che a volte ogni tanto magari ti si incricca ti si blocca ti si blocca non puoi veramente è una schifezza non sono neanche fatti un player web questi qua non si sa neanche fare un player web ma Now è italiano? Now è di Sky certo con le serie tv e film di Sky e allora non mi stupisco però costa mi sembra 9 euro le serie tv 9 euro i film ci sono a parte ci sono due pacchetti a parte perché Sky se non ti fa pagare un rene per vederti la tv non è Sky ma va va e le mette faccine grande che mette tutte le molte le faccine fanno sempre bene vabbè io non ho nulla contro Sky a dire la verità solo che io cavolo hanno detto ma ma io in realtà no perché non ce l'ho neanche ho mai avuto Sky quindi io sì l'ho avuto però poi pigliamo troppo no la parata cosa lo scemo qua la parata che parata io in realtà ho i cataloghi di Sky senza aver avuto mai Sky credo che abbia completato l'installazione ora vediamo dopo andiamo al menu così riscuota anche della roba quindi io praticamente avevo i cosi ma non avevo Sky io che sto anche all'estero dovrei usare un VPN se ne vanno anche soldi in più ma no ma tu guardate le lingue la tua zona te li vedi tanto c'è l'inglese che brutto mi serve molta più concentrazione io già ho difficoltà di concentrazione vabbè ma allora un po' tutti secondo me infatti quando magari mettiamo italiano magari poi mettiamo italiano magari poi stiamo a cellulare facciamo altro e stiamo a ascoltare ma io guardo io sono abituato con la lingua originale sono fissato io qualunque cosa sia ho visto Squid Gamer sono visto in coreano che volevo cambiarlo all'inizio non c'era neanche l'italiano come scelta e ho detto proviamo il giapponese adesso c'è adesso c'è ma quando l'ho iniziato io dicevo c'era ho portato il giapponese mi dava fastidio il The Sinch il The Sinch mi ha mandato in bestia veramente desincronizzato desincronizzato e poi mi sono abituato talmente tanto il coreano che oggi non riesco neanche più immaginare un'altra lingua incredibile che a me il coreano non è mai piaciuto come lingua infatti prossima lingua di Jack coreano no 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 ma va è possibile la lingua di Jack è il portugese no no basta non nominare non sto scherzando veramente miglioro un po' con lo spagnolo poi si passa al portoghese possiamo lì così poi vai a Rio così poi vai a Rio così poi vai a Rio quello lì purtroppo mi sa che però io io crederei volentieri a carnevale di Rio e poi che no bellissimo la roba che si balla ma che si balla abbiamo vinto 5-0 fossero tutte così le partite eh sì allora andiamo al menu andiamo al menu certo si si ha finito certo allora andiamo al menu che così riscuoto la roba si fa un po' meno di sfiga rispetto a ieri ieri mi andava peggio mi andava veramente peggio ok mando l'invito intanto poi sblocco la roba no una l'ho fatta una settimanale l'ho fatta e sono tranquillo ma io settimanale ancora niente al momento ok titoli MVP fatti mi manca esegui 25 spazzate e e mi mancano le vinci 10 partite online e gioca 10 partite online eh di area 2 di area 3 scusami e anche vinci 10 partite non solo gioca giusto ma si allora di area 2 3 mi manca vinci con 2 o più gole di vantaggio me ne manca ancora una 8 primi tocchi sono a 4 ah doveva fare tira te lo ricordi di fare tira o l'ho fatto e io no mi sono dimenticato no 10 volte io pensavo una volta sola proprio che l'ho sbloccato eh 10 volte tanto pesante vabbè vabbè adesso ce lo ricordiamo ho una vottura adesso vinciamo questa così io mi sblocco un'altra cosa ta-da mi sblocco con 2 o più gole di scarto un incredibile dollace ma cosa ne ho stiamo detto niente ma io che quando scenderti magari ma no c'è a preoccuparsi un incredibile hit pazzesco ecco adesso vabbè dai magari è sempre un regalo no come quando la Befana portava il carbone scusa oh scusami scusami ti ho preso scusami stavo facendo la cosa dei primi tocchi allora stavo sprintando eh lo tamponavo vai via Jay ah picchia che club picchia vai via guarda io come ci vado proprio cattivo sulla palla ci vado proprio no no cazzo che autogol lo volevo lo volevo deviare non ci sono riuscito lo so lo so succede tante volte ora ce la pigliamo con Jay così no no io non c'entravo una volta tanto con un autogol e io dico autogol bella 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 azione dai che ci possiamo fare guarda ma che strategia un po' di culo esatto un po' di di retromacchia non in gamba eh come rimpalli forse questi ma vediamo vediamo non mi sembra non fanno voli agghiaccianti domani finché non fanno i voli tutto a posto ma ne abbiamo affrontato quelli là che facevano il gioco aero oh quasi mi faceva fare autogol questo sta più in dita cacchio oh via no mannaggia rispetto all'ultima volta ho migliorato un po' la difesa quindi come portiere ho fatto qualche leggero progresso dai qualche cosina è diventato un portierone no 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 quello sei tu portierone io in effetti imparare mi è più facile fare gli assist gli assist io ho detto tanto gioco laterale gioco anche abbastanza alto ma ah che ci sono ok grande assist come no però sei contento hai fatto l'assist ho fatto io assist dai lo so non sei contento mi sono buttato va bene lo stesso il volo che c'era tutti l'assist tipo alla holly e benji ho detto che si poteva fare doppio calcio oh non ho fatto prima non ho detto mia con tocco mamma mia uh tiro dovevo fare urca devo fare tira a tiro o bel tiro uno dei due io tira sì vabbè lo stesso io ho bel tiro mamma mia ma è un timid oh me lo dimentico sempre ma vai che siamo vai che siamo oh ho fatto gol dai che così riusciamo a far più gol di scarto dai ma quello è rimasto fermo lì grazie del follow rocket pro grazie e benvenuto bella rocket pro benvenuto tra i leoni comunque no questo è il tuo canale ciao posso giocare chiede in tre ancora uno siamo già in tre beh facciamo 4-4 e poi diventa un casino comunque a me va bene lo stesso in 4-4 possiamo fare sì vabbè sì tanto le sfide valgono uguali va bene dopo questa qua va bene ti invitiamo facciamo la solita cosa manda i dati se sei su playstation 4 è facile basta che ti posso aggiungere io che sono esatto sì sì la stente personale di play esatto devi mettere poi dopo sta partita l'idea che ti aggiunge Jack e facciamo 4-4 così almeno sblocchiamo qualcosina dai stiamo facendo le sfide figurati nessun problema rocket figurati già dal nome si capisce che ti piace il gioco ma va mi piace se scacchi se si chiama rocket no no noi facciamo guarda una volta a settimana porto sempre questo per le sfide settimanali così le vediamo assieme oggi c'è anche area ti devo aggiungere su epic allora ti aggiunge su epic faccio il percorso lungo io lo faccio tutti i mercoledì perché ci sono le sfide settimanali quelle di area 3 area 4 oggi area 3 oggi area 3 e quindi poi le facciamo piano piano le facciamo e quindi tutte le settimane sono qui almeno in realtà ci sono anche gli altri giorni con altri giorni ci sono anche gli altri giorni però sono altri giorni non so se io dico solo di rocket ho parlato poi ovviamente altri giorni ci sono ho portato la roba però poi ieri ha portato Barbie il mio cavallo cosa ho portato ieri? ha portato Barbie il mio cavallo guarda se per PS2 lo potrei anche provare così lo lo distruggo si si prego quant'altro dobbiamo finire? tranquillo stia finendo la partita intanto io ti aggiungo guarda se se è per PS2 lo posso anche provare i giochi di Barbie così dico che schifo che meh magari che emozioni come Giulia Passione Giulia Passione Meta Man Famiglia no non si può dirlo Giulia Passione Heisenberg diciamola così sì Passione Passione col fratello ah no quella è no quella è un'altra roba ok vai che vai si fa grande ha fatto il miracolo d'altro veramente no in realtà è stato un avversario che ha fatto una fesseria visto? ah quindi non era Giulia Passione fratello o zio no giusto? sì no infatti allora aggiunge account epic pensa su Emule quando cercavamo le cose i tempi che dicevano ma questo non è il film che ho cercato sembra ma non è quello è un genere strano era piacevole però vabbè ho capito io mi ricordo ti ho aggiunto Rise ti ho aggiunto Rockets mamma mia quello ha volato mi ha mandato la richiesta l'amicizia su epic così poi possiamo aggiungerti esatto praticamente mi ricordo che avevo provato a scaricare mi sembra Space Jam una volta su Emule ma tanto tempo fa non c'era lo stesso c'era il Jam però ed era uscito fuori una vestita da Lola Bunny che stava facendo cose che col basket ci sentravano poco con gente vestita da Duffy e Michael Jordan che ovviamente aveva aveva comunque era famoso per i tiri lunghi esatto io dicevo ma questo non mi sembra Space Jam ma questo era una cheerleader può darsi peccato che poi dopo entravano quelli quelli avversari e con Lola Bunny facevano una roba che non c'era nel film erano quelli sui extra oh ammodamento grazie guarda grazie mille grazie non è uscito perché sono dalla play grazie per la sub grazie grazie mille sempre belle cose da vedere esatto io stavo parlando di Space Jam e Mule versione versione ammucchiata potrebbe essere per quello che è partita la sub ho parlato di ammucchiata il nostro conoscente una volta si è preso una sub perché aveva ricordato il titolo di quel film di quel genere a un utente che non sapeva come si chiama ah è vero c'era sto qua che aveva ricordato un film un film particolare che non posso dire che genere che e sto qua gli ha fatto la sub ok no abbiamo pareggiato ora finiamo ti portiamo subito ti invitiamo accetti la richiesta su epic così che sono io ti posso poi aggiungere te l'ha fatta no no mannaggia porca merda ma che brutto perdere così vabbè magari poi in 4 riusciamo a fare qualcosa in più ecco qua vabbè niente ci sono rimasto male usciamo eh vabbè pazienza pazienza è colpa di Jack ho sentato la richiesta quindi posso invitarti tanto me ne occupo io sono quello che scrive dalla chat mi occupo di tutte queste cose magiche allora usciamo andiamo al menu così invitiamo invidalo tu tu puoi sì che puoi sì dovrei farcela ciao sono io rocket sono io sono io che ti ho scritto ecco qua almeno capisci che non è un estraneo che ti ha mandato l'amicizia è solo un estraneo però non in questo senso nel senso sei un estraneo ma non sei un estraneo capisco allora vediamo un po' area 3 allora vediamo se ho migliorato qualcosa gli assist che invitato 104 su 150 madonna ho paura io mi devo assentare tipo 15 minuti allora poi ti aspettiamo sì ma se rimango in pratica no ti aspettiamo ci sono ci sono no fate fatevi la partita no senza di me altrimenti vi faccio perdere tempo ok fatemi una partita voi e arrivo subito dai ragazzi ok vabbè dai sai che bordello è un casino però va bene a noi ci piace il caos addirittura se non sei già in un clan però non so se sei già in un clan si sei già in un clan quindi niente se no avevamo anche il nostro clan speciale ebbè magari poi un pensierino ce lo faccio te sei già in un clan anche tu credo di sì credo di sì perché se è non so se puoi fare due insieme o sì non lo so ma abbiamo già vinto abbiamo vinto vabbè avevamo troppa paura vabbè si sono spaventati no non mi ha dato nessun punto ma che devo fare qua pronto ti domanda Jack dopo ma scusa ma è vera quella storia forse tu lo sei meglio di me che se hai se sei già in un clan non puoi andare in un altro è vera questa storia a me mi hanno detto così ma non so se è vero te la faccio mandare da Jack dopo perché è lui che l'ha fondato non è mio cioè lui però non so se è vera questa storia se sei qualche info in più magari poi non è vera e mi hanno detto una vaccata perché questo qua ma non può andare in due o tre anni insieme vabbè non lo so non lo so poi se è vero vabbè almeno qua giochiamo almeno questa la giochiamo ah non lo so ah ok vabbè ora te la faccio mandare anche a te te la faccio mandare da Jack appena arriva perché è lui che la fonda perché purtroppo sta cosa che non si può tipo delegare che può fare anch'io non lo so vabbè ora appena arriva tanto hai detto 10 minuti ma ci sono le bolle cosa è uscito le bolle dal gol le bolle bolle di sapone le bolle di sapone come in quello space jam che ho che ho visto però la mia resterà la migliore in assoluto poi se mai facessi un gol la vedrai ma prima non l'hai fatto o me lo so no 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 non ne ho fatti eh ma io sono sono arrugginito ormai non ci gioco da un bel po' hai appeso la macchinina al muro al muro si al chiodo diciamo così hai appeso la macchinina al chiodo no è forte su qua maledizione eh già marca ma cos'è c'è scritto abominable tower 1 ma che è le bolle vabbè prima abbiamo fatto le bolle adesso iniziamo a beccare dicete abbastanza così ma mannaggia più che altro perché ma potresti poi la riesco a far dopo perché c'era questa qua di area 3 che dice di vincere con due o più gol di scarto ne ho già fatte 4 quindi me ne mancava ancora una e la facevo ma vai via ah c'è uno che già mi sa vola mannaggia questi addirittura volano questi sono forti questi sono forti si questi questi proprio ho 22 punti questi sono belli tosti belli tosti questi chi mi ha fatto esplodere non io io mi picchio in mezzo ok vai 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 ok via no ma fate esplodere cos'è cosa siamo nel medio oriente qua è già il secondo fanno esplodere cos'è un server non serve le mediorie si il server iraniano dai 4 a 0 ma cos'è qua eh nessun problema te crede è sempre lui che fa i gol aze quello lì che è forti ah fa schifo è quello che è forte è quello che è forte sì forse arca miseria pazzesca scusa ah scusa scusa rai eh sì anch'io di solito addosso no cavo quello lì è quello che fa tutto lui da mamma ma 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 io stavo andando lì ho detto tiè non ho neanche guardato chi è ho detto vai via mamma mia ok no oh ora è l'altro minchia qua oh i punti ce l'abbiamo posso anche richiedere di uscire se non vogliamo proprio che andiamo a dieci perché se qua ce lo fanno dieci a voglia direi che si può anche provare a fare abbandono secondo me e provare un altro server prima che è un po' se uno cavo ma uno non riusciamo a farlo neanche della bandiera no nemmeno uno no no neanche cosa è la bandiera beh questo c'è uno è bravo gli altri sanno neanche loro come stanno facendo gli altri e forse anche più di noi sì vabbè non è che ci voglia tanto no questa è una solita partita che becchi quelli più forti e vabbè capita ma quelli al nostro livello ce la giochiamo perché fino adesso abbiamo beccato gente più o meno merda c'erò quasi no scusa grande parata no ho preso la scusa parata madonna e ho fatto anche le parate una l'ho fatta non so non so quanto mi manca in quella settimanale ma no no per pochissimo niente io direi di uscire signori però io voterei per abbandonare perché ecco come vuoi tu guarda io figurati dai e allora metti ho fatto partire vota per abbandonare e come si fa? sta cosa mi sembra ah premi option sì arrivo un attimo solo che sto girando sto girando la tv non riesco a giocare mi bumpo eh non lo faccio apposta scusa che io vado così in quarta gli altri ah non voglia e gli altri eh vabbè lascio infatti guarda noi quando facciamo così noi cambiamo server perché c'è gente che si gioca meglio rocce ci sono delle volte che si giocava male ma gli altri è così proprio vediamo vediamo se ho sbloccato qualcosa no ho sbloccato una mazza ecco allora a sto punto aspettiamo Jack che arriva mi sembra io sento già rumore così dico anche di aggiungerti a te nel clan e di mandarti la richiesta no ma l'ho sentito Jack non è che sono diventato eccomi ecco allora ti devo invitare ha detto ha detto se mi impegno se gli mandi la richiesta per il clan si ho letto ho letto ah ok anche a Dark lo manda e Dark non è già dentro ma Dark forse ha una tag tag clan si poi io mando e chi me la lascia mandare a te si è già in un clan è già in un clan chiamato Star quindi anzi può e non si può anche lui è in un clan tutti quelli che sono in clan devono prima togliersi loro dal clan no vabbè no non è difficile ah stai giocando un'altra partita chi io no no perché mi dice stai giocando un'altra partita ah magari è rimasto nel menu ma che cosa fai con la bandiera di Twitch vabbè io abbandono io abbandono il clan dai va bene allora ti invito ah vabbè ok ok la bandiera di Twitch è fra tutte le altre bandiera ma dai veramente c'è no la volevo anch'io la bandiera del genere sei in un'altra partita scarpe di gomma si scarpe di gomma poi Clati canterà la nostra no 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 e non lo so adesso cosa facciamo perché in realtà non so perché in realtà ti potrei sto aspettando perché è già in un'altra partita mi dice poi oh si si poi magari oh ok ah no ma scusami ma cos'è impazzito impazzito Rocket al solito mi dice che è in un'altra partita lo dice sempre ma 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 mi viene qualche server tipo Sudafrica l'altra volta abbiamo giocato dei server del Sudafrica io e Jack è ben perso però in India meglio in India in India il club il club il club penso che il club devi toglierti dal vecchio club così posso mandare l'invito esatto cioè prima ti esatto è una regola prima ti devi togliere se vuoi dalla clan no si è tolto si è tolto quindi posso farglielo dopo la partita va bene ah si dopo la partita te lo mando ok ok tranquillo benvenuto nei scarpe di gomma vabbè che che tra vabbè è il clan che non deve promettere e che non deve chiedere mai scarpe di gomma ora poi dopo la partita te lo grande bravo grandissimo siamo noi che bisogna un attimo impegnarci altrimenti altrimenti è un problema guarda se batto i denti è che ogni volta che vado sotto le coperte soffro di cambio di temperatura e tremo inizio a tremare come il povero Jack nell'acqua fredda dell'artic a te ti ci vuole l'attore che hanno usato per Space Jam quello che ho visto io dai mule che cosa me ne immagini per l'attore lì beh ti riscalda lui no piuttosto Lola Bunny no quella per te non è contemplata mi dispiace l'hanno nerfata Lola Bunny guarda si ho visto purtroppo voglio dire non sono un grande fan di più pazzi però ah vai tranquillo l'ho visto anche io Lola Bunny no ma stai sereno ah aspetta bisogna fare tira c'è che qualcosa se io ho un bel tiro ma se lo faccio dopo se lo faccio dopo mi sembra una trollata io lo faccio perché sennò dopo me lo dimentico per quello non so perché sennò veramente qua quello lì non lo finiamo più quello bel tiro ecco fatto bel tiro ok no sennò veramente non facciamo più quello mi ha lisciato pochissimo ok via parata anche questi gli avversari bambano parecchi anche poi li buttano ti colpiscono addosso e ti fanno delle cose incredibili dentro in che senso che bello bello guardala guardala da un'angolazione migliore bello bella questa cosa vedi qualche stagione precedente pochi di tardi climb privato ti racconterò qual era la sorpresa della lady non posso dire per sicuro che c'è una sorpresa clamorosa non so se è la stessa che abbiamo in testa io ce n'ho una in testa ma so se è quella sai ha a che fare con un pennuto no ha a che fare con parti diciamo anatomiche che non ci dovrebbero essere sì sì che è quella che vedi spesso tu sono quelle parti eh cosa c'entro io con loro tu non hai niente contro nessuno ma sei tu che ci giochi io non ci gioco io che mi sono emozionato a vedere quello non avevo dubbi ti eri emozionato ma avevo dubbi però non ho fatto quella scoperta lì non ero troppo contento guarda non lo posso dire in live se no mi banno non posso però potremmo fare una live podcast sul segreto della Dimitrescu eh e e ne discutiamo in live sì e soprattutto vediamo il filmato vediamo il filmato che mostra il suo segreto visto che questi vogliono troppo venimi addosso beh allora lo faccio anch'io il problema è che poi dopo il segreto ho venuto addosso a un carimi tedesco no vabbè nel senso che mi ha bampato anche lei mi ha bampato come siete maliziosi mi ha bampato io ma io non ho detto niente ecco oh sì ma si vince sono tutto contento ah e diciamo sbloccare anche la cosa delle dei due gol o più di vincere ma io no io con uno sì devi vincere con più di due gol e di scarto e blocchi 5 io ne ho fatte 4 spagliato ho scritto in difesa vogliono scrivere mia peccato avevo fatto il piloto ma c'è uno che ferma i nostri avversari meglio se sono avversari fermi mi sta bene perché mi sono un po' allontanato dal pc quindi non vedo i messaggi della chat no guarda se c'è qualcosa guardo io sì sì bella tiro in porta no andata qualcuno vada no ci ho provato devo ancora sbloccare devo ancora sbloccare quello degli assist considera che siamo in quattro quindi qui sì no ma in quattro beh sì 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 ci sta ma guarda fino a marzo ho conto di fare una quarantina di assist non penso che non riesco minchia poi senti appunto ma mannaggia ma mi vuoi dire davvero che in due mesi non riesco a fare 40 assist sì che riesce per fortuna non è a scadenza mensile quello di area e meno male che non sono a scadenza ma le farebbero molto più base ma poi non ha senso fare la scadenza mensile si fa fino alla fine di un pass si piega il tempo che si impiega ma si riesce ok no ma infatti ma infatti il pass deve essere così ma io sto contento che con questo pass ogni volta puntiamo ai crediti poi basta meno io punto sui crediti anch'io però poi c'è una cosa da dire che con le sfide ti sblocca si come ha fatto eh non vinciamo per due dal discarco eh vabbè pazzia pipo pipo si chiama questo qua pipo 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 la coca si chiama pipo la coca pipo 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 si quindi quindi si diciamo che poi vai a vedere cosa io di stop pass comunque non ho più niente interessante anche io a me interessa solo prendere le compense stagionali si anche a me poi quando abbiamo fatto le sfide quelle quei 22 la direi che l'ho fatta direi abbiamo vinto ma non ma non bella 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 sfida però abbiamo sbloccato i due due rivincita ci dicono rivincita io no ragazzi io devo staccare che si è fatto ora di cena va bene allora grazie buona cena grazie buona cena ah ok allora torniamo un attimo a menù che ti invita nel clan ti invita ti invita nel clan nelle scarpe di gomma e poi rifacciamo la partita si abbiamo creato un clan sicuramente impedire per il clan è che non deve chiedere mai ah ti ha mandato l'invito urca aspetta a livello non lo so ah scrivilo in chat magari uh che bella a livello 176 c'è la macchina la nexus bianca guarda che è bella vai guarda che bella bella però ti pare che riesco a vedere a livello 170 no io ora la sto facendo vedere in live ok ma sono distante si si è bella bianco titanio le scarpe nere stavo dicendo le ruote nere cosmosis bianco benvenuto nel clan andiamo a farci un bel 3 contro 3 quando vuoi bella anche la corbital di color blu 2 bello però si c'è qualcosa dopo effettivamente di decente mi piacerebbe ok non è 4 contro 4 ma è un 3 contro 3 più facile più tranquillo poi andiamo in india no sto scherzando andiamo in india no no quella lì bella questa macchina mamma mia ha visto che macchina che si è preso sono pazzesco però anch'io qualche macchina bella però una macchina bianca guarda con le ruote mamma mia acqua gli eri mai dato il vito al ragazzo ah si si ok ecco noi e allora benvenuto nel clan eh ho capito io non l'avevo visto gli eri dato il benvenuto come facciamo se capitano contro 3 di un altro clan ti cambia tutta la scritta e tutto si si è bellissima sta cosa poi bisogna fare non c'è qualche torneo giusto a provare in 3 eh un po' più tardi un po' più tardi le 9 le 9 alle 23 eh comunque mi sono basso a letto così non devo non devo più guardare nulla aspetto allo scaldamento dopo mi studio il coso diciamo ma cioè si può dire emulatore su si può dire emulatore perché l'emulatore è legale mi sto studiando l'emulatore della ps3 però non so com'è no ecco quello non si poteva dire come no perché la sony ha detto che sarà perfezionato ma sui giochi originali però eh lo so ma loro hanno detto che purtroppo dicevo dalla generazione precedente si può dire da quella play 3 in poi non si può vabbè sto studiando colori vabbè comunque abbiamo capito siamo fra noi ma si ma non me ne frega è così perché io poi ci metto quelli originali perché nel caso si dovesse rompere la play 3 cioè spero di no però nel caso che però so che ti vogliono dei risorsi di computer computer 2000 euro per farlo girare bene quella della play 3 potentissimo potentissimo già il mio non regge bene i giochi play 2 non è che non li regge bene li regge bene ma non riesce a tenerli a ritmo non so perché ho questa cosa che se mi si vissi rompere se mi si vissi rompere ma cioè iniziano o rallentano o vanno ultra veloci e ho provato a risolvere mettere i settaggi ideali ma niente da fare ah aspetta la play 2 anche a me però perché l'altra volta punisher mi mandava lento poi x-man no ma punisher si punisher ogni tanto ti fa quelle schermate tipo epilettiche si si quella è proprio il gioco non so però va più o meno se uno si accontenta va si si accontenta va x-man invece va benissimo te ne accorgerai poi sarà figo perché x-man è anche in italiano l'ho messo riusciuta a mettere in italiano con tutti i dialoghi mamma lì con i briefing tutti in italiano dimmelo godo bene cavolo io penso che quello lì si poteva anche giocare in 4 nella stessa stanza c'era la cosa della playstation 2 che potevi mettere 4 controller e tu multi qualcosa esatto e io ci avevo giocati in 4 con i miei amici x-man non ho mai visto quello della playstation dal vivo quello per far giocare in 4 che bello è un aggegino da mettere dietro con il 4 controller aggegino da mettere dietro bisogna ricordare si è un non lo so come si dice vabbè è una roba che attacchi comunque c'era anche pirate rogue 3 ma non è a portare l'aria ho visto dei gameplay mi sembra proprio il caso white chronicle non mi ha convinto dico la verità non mi ha convinto no il problema non prendono infatti poi poi c'era sindacchete che è tipo destiny è futuro però ha solo 4 ore di gioco della storia quindi boh sono un po' scettico il solito soulblade soulcaribur 5 ma al solito picchiaduro non è che non ci ho mai giocato al 5 non so com'è tu ho giocato sicuramente al 4 ho il 6 il 5 forse mi manca ma l'ho visto comunque l'ho visto è un più grande il gioco anche quello potrebbe essere un po' di bello comunque però dipende quanto e che prezzo 5 euro ma io lo prenderei per 5 euro anche perché comunque in quei giochi 360 che medi le mani 360 vabbè non importa la console tu medi le mani in quei giochi picchi tutto poi sono classici hanno l'arcade con la struttura il finale del personaggio non so male non so male e poi c'è quel dragon dogma che veramente mi ha conquistato sì perché ho detto ma sto qua secondo me è una figata ho visto la serie su netflix ho visto cavolo di nulla ma era fatta bene ma il gioco però se mi ha detto che c'è la strategia vabbè ma sì vabbè ma clama c'è la fame se si applichi c'erano gli assassin creed ma me ne guardo bene di prendere no ma cosa sono stealth sono i primi due non è vera questa cosa che sono stealth i primi sono stealth sì i primi due c'erano stealth ah beh i primi due sono stealth confermo eh lo so in realtà due è già di meno l'uno mi ha mi ha messo fortemente l'uno è il più stealth di tutta la serie c'era anche il flag possibile che era flag black flag black flag è zero stealth è un gioco di pirati che va in giro a conquistare a conquistare le città come pirata quindi è tutto tranne che è un gioco di stealth se tu vai proprio a fare l'invasione vai con la nave c'era anche quello lì a 5 euro belli sia un black flag uno dei miei preferiti guarda potrei anche potrei anche provare a prenderlo ti dico solo ci sono barba nera la club potrei anche provare a prenderlo se c'è black flag sono i personaggi i pirati veri vivi proprio l'epoca piratesca delle grandi conquiste poi il protagonista è tosto uno di quali è ovviamente un personaggio tosto basta che non sia stealth ma che stealth una cosa che ne so anche l'ultima missione finale tutta la mega stealth oh tu devi ammazzare tutti diventi potentissimo una bella black flag ormai è un rpg praticamente ormai quando la saga col 3 è diventato un rpg nel 3 ha più stealth il 3 si ancora un po' di stealth c'è l'altra ma il black flag non è stealth non è avrà magari una missione 2 qua e là ma non sono con lo stealth poi vabbè se ti beccano li ammazzano ah ma non è che deve ricominciare il gioco dal 3 è diventato opzionale dal 3 è diventata una cosa opzionale per il 100% se uno vuole fare il 100% gli obiettivi tipo trofei così è diventata una cosa opzionale lo stealth perché ti dice completa la missione senza mai fati beccare ti fai beccare eh hai vinto lo stesso no abbiamo perso la stiamo prendendo ma chi è che ha votato ah si voto anch'io voto anch'io non lo so vediamo ci sto pensando adesso vedo di nuovo perché sto spendendo un sacco invece che di giochi nuovi di giochi vecchi vai bene ora con la play ah è andato via doveva andare via ah ok doveva andare via ah ok allora va bene ah ok ciao bro ciao buono aspetta magari hai voluto fluci petta andiamo un attimo a menù che devo riscuotere magari è uscito solo perché era stufo in questo server magari sto server ci devo tornare in sto posto perché so che allora aspettando no ma infatti non è uscito no ma infatti probabilmente come noi era stufo di pet ok ho fatto un'altra cosa benissimo vediamo se ho qualcosa da sbloccare no io no io nulla ok ho sbloccato quella settimanale forse 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 ah no trova partita vai e siamo in India non lo so adesso mi sono impallato con la roba di ps3 non so che magari io anche xbox 3 e coso perché c'è questo negozio che vede un sacco di roba di xbox 360 e ps3 oh che bello voglio anche io un negozio così e viene a Genova e viene a Genova ci prendono più di viaggio che di gioco bella questa macchina mamma mia sembra la Dodge Viper come strisce un giorno ti fai un sabato te lo passi qua in centro a Genova vieni qua ti fai dalla mattina alla sera ti vai alla sera quindi spegni un po' di giochi ti porto lì ti porto tanto me li compro anch'io vieni perché poi così poi vai a cazza sei contento c'è anche qualcosa di Resident Evil ma io non sono un fan di Resident Evil mi sembra Revelation ma non so no ma io non voglio Resident Evil no per Xbox vabbè ho capito però no ma io non lo voglio non l'ho proprio d'occhiato ah c'è Infamous per PS3 ma non so com'è Infamous bello bello puoi scegliere diventare il buono cattivo boh boh è un gioco dove spacchi tutto però forse in quel periodo si in quel periodo mettevano sempre uno o due mi stelle in tutti i giochi lo fanno ancora oggi con della stoffase se non puoi dire i giochi stealth i giochi stealth non esistono più il problema è che il problema è che se io perdo in alcuni giochi mi fa rifare la missione eh si è normale anche in tutti i giochi io non voglio sta roba Infamous è una gran bella serie se lo giochi è facile non ti crea nessun problema è fin troppo facile ti ammati tutti non ti dura nulla io l'ho fatto la massa di difficoltà Infamous c'è un po' di roba che te l'ho detto c'è anche quello One Piece Rogue Warrior non è quello Rogue Warrior ma non so com'è un altro One Piece non è Pirate Warrior è Rogue qualcosa non lo conosco quello ma mi ispira il primo gioco di One Piece è stato proprio Pirate Wars 3 è bello bello il primo Pirate Warrior non so com'è speriamo ah si è bello è bello certo il 3 è stato innovativo per tante cose però l'uno guardate che veramente ho una serie su cui hanno puntato tantissimo ho investito un sacco di soldi mi hanno tirato addosso incredibile in Famous allora se mi diceva potrei anche prenderlo però sicuramente è veramente tanto bello in Famous sicuramente non posso farvi provare i giochi del Playstation Now attenti ti l'avrei fatto provare a te un'altra ventina di euro partiranno sicuramente sicuro sicuramente partono di nuovo però poi quando ho quello quello direi che poi per PS3 PS2 siamo a posto che mi fa male il fatto di non potere cavolo non potere emulare bene come ti ho detto ho i giochi e non posso leggerli PS2 in realtà non è che giocherò tante cose diciamo Marvel Allianz che è in italiano ma sul PC non me lo legge in italiano e tu è in inglese non è in italiano ma è in italiano il primo è in italiano e anche il secondo c'è in italiano ma quando lo metto nel computer non me lo legge in italiano sono in inglese ah perché l'emulatore è configurato con l'inglese come lingua madre ecco perché quindi controllare le opzioni della lingua ma è in italiano no non conta il gioco conta come no è in italiano cosa è in italiano il emulatore si ma devi vedere probabilmente stai usando un BIOS NTSC ah è che ne so non lo so ma è lo stesso problema di Punisher però poi avevo risolto mettendo tutto in italiano me l'aveva risolto però vediamo intanto la 3 l'Xbox vediamo poi ci ritorno quel Dragon Dogma sicuramente interessante vediamo Infamous Infamous sicuro SoulCard un po' d'altro Infamous 2 sono i miei giochi preferiti in assoluto veramente il primo no eh l'1 si no l'1 è bello ma l'2 è veramente la prova però l'2 è il seguito dell'1 quindi ho appena giocato l'1 se sto qua c'è un evento e tutta la città molte persone assumono i superpoteri diventano persone speciali c'hai l'esercito ovviamente che ti vuole fare tifoso perché hai i poteri puoi fare il buono puoi fare il cattivo devi decidere e poi in base se continui andare avanti a fare il buono al cattivo modifichi anche un po' la trama è una figata il fatto di decidere diciamo le sorti della città in base al tuo modo di fare eh vedi il 2 poi va a concludere la trama ho dei colpi di scena mica da poco ah beh no no però non lo so vediamo 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 se prenderlo consiglio se è 5-10 euro 5 5 tutto 5 5 quello dogma sindacate però se è resentivo no ma io non li voglio forse è resentivo ma non so perché ma no ma non è per me sti giochi non sono permessi ma che è un resentivo 5 5 come ti ho detto è resentivo revelation no revelation no non te lo sconsiglio anch'io eh 5 non l'ho proprio trovato per 3 per 3 ma non so se c'è per la 3 mmm si ma ma io ti consiglio sulla 4 quando lo trovi in sconto per farci la coop ah beh perché si era più senso no da giocare col computer è becera l'intelligenza artificiale è becera ma ha fatto insieme ti aiuto io ti guido io non è un problema ma quanto vuoi che costi 6-7 euro quando hai sconto si può anche fare nel sconto 6-7 euro si 6-7 euro ti trovi insieme il 5 e il 6 no 6 6 è come 5 è stessa cosa solo che il 6 è un po' più cioè diciamo non è stato apprezzato tanto per la trama lo sai per le solite cose ma il gioco in te non è brutto però se lo dici ti ammazza la comunità di resentivo allora guarda lo dico apposta dirò che è bellissimo poi mi è piaciuto che ho sempre detto che coi mi è sempre detto a me piace tantissimo il resentivo 6 penserei anche io dirò che è bellissimo in realtà poi anche se mi fa schifo dirò bellissimo lo faccio apposta può essere il 4 di resentivo ma non credo che esiste su question 3 resentivo 4 non mi sa di no mi sa di no perché il 4 devi venire giù te agilino così ti fai una spesa grossa di sì ma io sì alla fine no no fine scusami di giochi non volevo dire fanno qualche soldo da parte adesso fra l'altro mi sta scadendo anche il pass che non so come far rinnovarlo che non mi lascia prenotare quindi senza pass non lo scrivo non penso neanche puoi andare a vedere i giochi aspetta andiamo a menu penso neanche puoi entrare nei condi non è colpa mia in ogni caso per la questione del pass nel senso che se io sono stato senza numero telefono per dieci giorni io vado allora grazie mille grazie mille per aver giocato per la sub chiaramente grazie grazie quando vuoi tutti i mercoledì siamo qua che giochiamo a Rocket vuoi fare uno shout out al canale mio di Dalkor se vuoi sì però falo tu sì però falo tu e non riesco vai ok ti provo aspetta un attimo allora no vabbè se è un casino eh sì sono molto il cellulare non ce la faccio ce l'ho fatta ce l'ho fatta eccoci qua canali nostri vinci i dieci partite ancora otto oh ancora due oh di Dalkor tv ecco fatto adesso mi è venuta la cosa di comprare i giochi ma fai bene perché non è partito lo shout out per dare devo iscriverla no ma quelli sono tutti i giochi che voglio portare in là e per quello non è roba che gioco a K è da solo no mi è arrivata la cosa di Twitch che ti dice esclusiva di Monster Hunter Rise per PC ottieni il set regalo gile del cacciatore supportato di autori ben in belino ma che me frega di Monster Hunter per un set no io non sono fan perciò quando vorrei aspetta un attimo certo che sono lontano adesso penso che sono al pc ci vorrà un bel po' quando ti puoi muovere vieni un sabato ti portano in questo ciao coin ciao coin parliamo di te prima puoi fare anche un shout out a coin vuoi un casino se ti parliamo proprio di coin non dico ce la fai o se no provo a farlo io shout out a coin no no ci sono non ci sono te lo faccio te lo faccio allora l'abbiamo fatto come va la coin eh dai non c'è male ci sono clà fai partire quando vuoi ti ho detto quando vuoi vieni in genova ti porto lì comincia a comprare come un pazzo lì dentro eh vabbè non è che tutti ci sono anche i giochi della Wii se ti interessa a 5 euro si si mi interessano c'è la Wii Wii U allora escono allora vedi Jack che esce con 100 euro esco con quelle robe che non sono riuscito prima nei tempi pazzesco ne porti lì poi si deve pagare anche il viaggio eh il viaggio è la cosa più costosa ma perché sai cos'è non è che c'è il braccio di Genova devi farlo cosa comprate allora io oggi ho comprato un gioco di One Piece Pirati War che porterò in live per la PS3 e stavo valutando di comprare Dragon Dogma e forse anche in Famous e qualcos'altro e Soul Calibur 5 sempre del PS3 però sto pensando sicuramente sicuramente Dragon Dogma che mi è piaciuto dal gameplay One Piece ce l'ho già io al momento comprare no ma la EA Play con EA Play chi ha il servizio sia su Xbox Game Pass o chi ce l'ha proprio come EA Play su Playstation la figata è che ti hanno droppato Mass Effect Legendary Edition tutta la trilogia ed è bellissima infatti dopo devo andare avanti non vedo l'ora di andare avanti oggi ho dovuto bloccare perché devo staccare oggi quindi io diciamo che sto raccattando sacco di roba PS2 e PS3 per portare in live quindi mi sto concentrando quasi di più sui giochi PS3, PS2 Xbox che su quelli ah poi ho raccattato quelli della PS1 che ho trovato nei cassetti non tutti ne ho trovati alcuni nei cassetti i due giochi della WCW uno che è Assault WCW Assault quindi mamma mia proprio pazzesco Cycle Silent Bomb ho trovato Street Fighter Alpha 3 Fatal Fury Madonna lì e lo dico io comunque il povero che ci faccia 50 euro quando andate e ritorno quando andate e ritorno 50 di viaggio più alti 100 di giochi esatto che cavolo è una bella spesa eh vabbè così ti fai un carico di roba e basta finito poi sei a posto a vita se aspetti il gruppo mi sa che non trovi più niente perché già io altra volta ho detto Dare darò la live poi lo prendo l'ho più trovato vabbè direi non è sto giocone in questi giochi non c'è nulla che mi interessava da prendere perché sono giochi che c'ho già mi prenderei di sicuro c'è anche Final Fantasy X2 cosa cazzo che ho che l'ho visto e ho detto ma 5 euro ma cos'è sta roba no se devi giocare Final Fantasy giocaci su quelle season 4 a cazzare il 2 no no c'è la collection 10-10 secondo insieme no non farlo non farlo no neanche 5 euro ma faccia labbiare la blu rino è quel gioco lo sapevo perché io poi l'ho visto ho detto ma questo non è il gioco che odia blu rino si mi spruzza mi spruzza mi impazzita mi impazzita la macchina mi impazzita la macchina guardate cosa mi ha fatto la macchina guardate guardate io com'ero guarda è schizzato dall'altra parte quindi è quello brutto diciamo di ok non è brutto non è così brutto non ci sono finalmente veramente brutti a parte il 2 i tempi del nintendo originale non ci sono finalmente brutti va a gusti va a gusti ma questo voglio metteresti l'anima perché uno non conosce i personaggi e due aspetta se sono quelli là del 10 riconosco come conosci i personaggi del 10 ma io ci ho giocato al 10 quello per ps2 ho giocato al 10 gli ho fatto 7 8 9 10 non lo sapevo che poi mi ha fatto bestemmiare il 10 e anche gli altri no il 10 è il gioco più facile della saga insomma all'inizio mi sono bloccato all'inizio contro il sin all'inizio che dicevo ma come cazzo si battono questi devi fare quello che ti dice auron ti dice io no ma non facevo niente era scrittata quella battaglia ah no no io no io ci andavo proprio di carogna con la spada di auron no non si fa così e infatti ma c'era scritto che auron diceva ma devi fare e io dicevo ma chi è sto e io dicevo ma chi se ne frega e intanto suonava allarme che rapace dare hai visto eh no coin che rapace dare ma io bello che dicevo ma auron mi sta dicendo secondo me in teoria dovrei seguire auron però nella pratica me ne sbatto le balle e continuo ad attaccarlo con la spada poi auron diceva sempre allarme allarme no è il mio preferito auron quindi anche io vabbè e poi l'hai visto solo all'inizio ma guarda che bellissimo no no io ho detto che all'inizio non riuscivo poi ho chiesto a un amico di farmelo e e me l'aveva ma ci sono le scaglie è la parte più facile ma a parte che il gioco è tutto facile tranne ma scusami ma perché non hai dato retta a auron perché io io gioco a spadate a me non me ne frega niente guardate già è quasi impossibile perdere quella battaglia perché a un certo punto auron dopo un po' si stufa e te lo senti te lo faccio io però sono infiniti è vero sono infiniti se non fai quello che dice lui sono infiniti se tu combattisci è come le missioni di Red Dead Shizumi cioè quando sono baggati io ma quanti c'hai di questi ma lei non era baggato aveva fatto posta poi c'era quello 5 che non l'ho preso il Final Fantasy mi sembrava un pacco e ho detto no no non prendo poi c'era altra roba ma non ha conoditi i battersi ma un pacco perché tecnicamente potete trovare a 5 la versione con tutti e due dentro non pacco perché posso giocare su PS2 al 10 se voglio proprio esagerare allarme no come no poi c'era qualche FIFA vecchio qualche PES vecchio ma non mi va mi va a portare i PES sì ma inutile portare piuttosto porto FIFA 98 che ce l'ho FIFA 99 che ce l'ho ho trovato FIFA 2000 che ce l'ho li ho recuperati ce l'ho nel cassetto c'è Marvel Super Heroes Rival School ma quanto è questo cassetto di cui parli è un cassetto vero? fisicamente? sì è un cassetto in camera ok tipo alle due di notte mi sono messo a cercare la roba quindi non è suonato l'allarme no 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 Rival School ma poi prima o poi lo devo rifinire Rival School perché sono indietro è bello devo portare come retro eh sì cazzo se è bello bello sì opla grande col mio assist e il tuo goal che goal pazzeschi eh quello poi c'è Fatalfiuri Fatalfiuri ho trovato Libero Grande This is football no veramente devi farci rivedere viva football non ce l'ho vero mi sa che non ce l'ho ciao tizio arrivo gente va bene ciao tizio conosci questa voce ho trovato Silent Bomb ah c'è Pandemonium 2 a caso ma esiste anche il 2 è vero che esiste anche il 2 non c'è solo 1 io ho detto ma questo ma che cavolo è poi c'è Marvel Super Heroes che è ma Pandemonium 2 è PlayStation 1 o PlayStation 2? 1 no 1 1 1 1 quelli della WCW quindi vedremo io che giocavare è vecchissimo ah ah c'è Goldberg ah ah c'è Vampiro no io io penevo sempre Vampiro Vampiro ah 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 ho capito disgraziato c'ho anche ActuAssocie da qualche parte e c'ho anche VampirUnterD ma è un gioco talmente mi piace proprio le parole che iniziano per Vamp ti piace molto tanto poi c'ho VampirUnterD che ero fan di VampirUnterD ma non del gioco è terribile il gioco della PS1 madonna non ci capivo una mazza mi si mancano anche tutti gli inglesi vabbè direi tu ma non mi ricordo so che l'avevo droppato su e ho detto cos'è sto schifo però amo il personaggio quindi il gioco di full mentale è che mi porti avanti quello in teoria devo portare avanti tante cose si si in teoria devo far tutto devo portare avanti tutto devo portare avanti tante cose ah avanti è lungo con la live si beh a sto punto viene Tizio un attimo magari facciamo due partite col Tizio ah bene si allora andiamo al menu si eh Tizio quando vuoi vieni porre a giocare così facciamo due con te così alle nove stacchiamo una due partite uno due facciamo come vuoi vai la tua live si si uno due facciamo così non ho problemi ma sei già dopo chi vedere no no non posso neanche andare vicino ah ok io dal cellulare non so chi cavolo ho un altro livello ah si ma posso immaginare chi c'è faccio vado a vedere arrivo invitami al party dice vabbè invito al gioco vuoi dire non al party no al party guarda no perché sennò è un casino ti invito al gioco in party ma sei da playstation si appunto sei da playstation perché a volte gioca da pc comunque la playstation non lo conosco come si chiama non amo il chiasso nelle orecchie oggi c'è pure mal di testa oggi anch'io anch'io no ma oggi sembro influenzato ma non sono influenzato quando vuoi di testa cazzarola ti ha detto di si mi segna che non sei ancora online ti dice che non è ha detto che non sei online sei messo offline sei messo offline sicuro devo saperlo perché altrimenti non posso invitarti dai nini dovevi ritrovarti ecco l'ho trovato l'ho trovato perfetto ecco ti tizio vieni con noi dai venga a giocare sì facciamo facciamo due partite poi devo andare lì e ma no non è quello che io casino proprio ma non è quello già più già tre già mi dà fastidio tre in party in live poi c'ho mal di testa poi parte l'allarme ti sentivo un po' fiacco eh anche ieri c'avevo con c'ho un mal di testa sono dei giorni che non sto bene cioè non è che non sto bene probabilmente stanno arrivando la mia ora sì dai no sì è un po' così però volevo farla live lo stesso la posta la live di domani anche la live di tutti va bene allora dai invitano anche nel party tizio dai ok va bene basta che non fai casino perché sennò mi incavo io non urlare per il resto anche me non sto bene eh lo so infatti io e te siamo al mese mi spiace mi spiace io e lei probabilmente stiamo arrivando alla nostra ora probabilmente no ma io sto male anch'io no ah beh l'ho invitato l'ho invitato ok eh ti ha invitato basta che non urli poi siamo tutti contenti no è proprio ma è da ieri anche ieri non è che stavo benissimo ciao tizio ciao tizio ciao tizio ciao tizio ciao tizio oh ma te ti vedo sempre in tutte le like sono io ci sei anche tu eh io modero io ci sono in tutta twitch non faccio in tempo andare a un canale che c'è lui no ho sbagliato allora ti spiego il motivo perché io sono di ogni canale ma sto scherzando perché ieri ti ho visto da dove mi hai visto? ah e sei andato da Alessio da quella Alessio come si chiama? dalla degenerata eri lo conosci anche tu si perché io vado dalla degenerata perché ah io modero da Alessio io modero io faccio le grafiche io faccio le grafiche si lo so infatti io ho fatto e c'è da tutte le parti io ci sono però tizio oggi ti sei perso la sorpresa della Dimitrescu un po' ti sarebbe piaciuta quella sorpresa ah l'ho visti l'ho visti sono mai essere gli stagioni ti ho visto che il FK c'ero però lo so e lo so o ci stiamo avvicinando alla fine ma non credo io lo scrivo in chat ma c'ero io ero come lui ah vai ma almeno sei soddisfatto se hai visto il seguito da Dimitrescu eh sì mi aspettavo di più sinceramente aspettavi più lunghi aspettavo avesse un becco più Jack metti tira tira o bel tiro grazie che me l'hai ricordato mi ha subito il gol e bel tiro eh ho capito ma poi me lo dimentico però poi me lo dimentico era sfizio no questi qua non li facciamo più sta sfida davvero assicurate non ho mica finito palla palla neanch'io palla palla non sai che non la facciamo più sta sfida con tizio si vince dai tizio troppo troppo scatenato ha più vitalità di noi due messi insieme no ma aspetta io adesso adesso sono adesso sono malmesso adesso intanto devo rispondere su telegram un po' come un po' come il mio prof che diceva che diceva sepe non si alza neanche se si fa no non in quel senso non in quel senso non in quel senso attenzio cioè ti metteva alle spalle no beh perché aveva male alla schiena non si spessi non male alla schiena non si alzasse se mi infalza manco se tagli alla fine ci ha fatto le gialle di maturità corricato corricato a terra bam lo appoggiavamo sulla cattedra bravo tizio lo mettavate sulla cattedra si perché lui non si alzava più quindi lo sollevavamo come? e si l'ho fatto e non ti dico com'è andata la prova ora no è un esame è un esame io non dico niente è l'ultima della maturità ma sei sicuro che sta parlando Jack oppure c'è infiltrato Tim che sta parlando no Jack purtroppo Jack non è che parla di cose orali il numero ora esiste ora esquillava quindi esistono si ma non è cittime è fasto è adesso non è cittime ah quindi no ci sono questi tu usciti le orecchie di clara oggi poverino anche quelle di Jack mi sa che no no Jack Jack abitato su discord tranquillo ti ho abituato mi no io no 10 e urla incredibile è esperienza vedi perché io non entro mai su discord vedi io su disco non ci sono mai e credimi che ho un'amica che mi fa chiamata da mezz'ora che mi racconta delle cose poi intanto si mette ad urlare infatti fa così aspetta fa così allora io sto facendo questo farla così mi sa forse forse un vantaggio dici vabbè magari un giorno no ma ha detto che con altri con altri mi chiama per altre ragioni ma a me mi chiama per sfogarsi io preferirei che ti chiamassi per altre ragioni anche io preferirei che ti chiamassi per altre ragioni ma io gli direi guarda che mi devi chiamare per altre cose non è che mi devi raccontare ma ho chiamato 3-4 persone con cui beh non ci puoi dire no però però hai capito tu ma io anche io con le mie amiche facevo così dicevo ma guarda che a me ma non mi muovevo il pad gli dicevo ma guarda che sfogarti a me non mi interessa che ti sfoghi cioè che cavolo a me mi devi chiamare per altre cose sembra la canzone tocca qui dell'articolo 31 non si può leggere il testo no no si può leggere potrebbe essere nel nostro format musicale ma non so se è il caso e aga fra poco ci fanno fuori questo mi sa eh ma stiamo vicino noi no con 3-3 no ho fatto 3-3 no perché eh sono concentrati questi ma anche noi siamo concentrati guarda che la concentrazione eh ma noi se più più non parliamo più siamo concentrati secondo me ma ma sì vabbè se siamo competiti diventano i miei competiti se perdiamo tipo di disegno il podcast diventa solo rock e tenni inizio non ci offendiamo se ti concentri e rimani in silenzio diciamo che non ci perdiamo cioè guarda che la cancella il suo successo di disco non posso resta o meglio lo canzino col pensiero non dirle al banco agostino magari io io comunque direi un vi patetissima partono gli asti ma clava che la manda i ma clava manda i vip la domanda i vip solo a persone pazzesce c'è sepastiano e alex sepastiano ed alex sanno delle cose incredibili hanno due maghi sono i maghi ma c'è allora sono i maghi uno che aveva l'immagine di gesù ma vaffanculo quando mai ha avuto l'immagine di gesù però che ce l'aveva la regata però cesare borgia quello di sebastiano e oggi c'è una persona che non possiamo non so neanche come si chiama ma chiunque sia un quel vestito direi che non si può nominare che che lavoro facci questa persona sarà troppo no 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 ma va a un maschio figurati ma no 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 una roba militare star maschili no 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 e dico perché sono bannolo claude no 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 fidati che se buono non è un tubo vuoi conquistare il cuore di see va mi mandi la bella marcetta militare lui ma se il simbolo sulla spunta degli adulti puoi dire questa cosa il simbolo nessuno di noi la spunta però tutti stiamo facendo il linguaggio non veri strong ho visto dei canali che c'è la scritta linguaggio veri strong molto forte non è anche altri canali sono anche roba che nella vita reale faccio serenamente supplementari stava entrando la palla e vi giuro parlavate mi sto facendo la palla nel mentre io ho fatto il possibile quattro gol io faccio il mio dovere lo sto facendo anche una parata vivi così cerchiamo di vincere la segna mi sa che si vignano porti per fare per noi tv vai vai claudio 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 ebbe un mago dell'inter anche tu ti finita no no io si ma l'affanbrodo va al mira mi nomi con la squadra di sfalliti bravo tizio invece tizio ti fa napoli no 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 banna bannami jack sei proprio piccino tizio hai una vocina dolce dolce e beh si tizio è allora io farei si lasci bampo per vorrei no 25 spazzate ma chi il banner jack no aeree no niente banner mi spiatti è più facile il contrario voglio dire che là si è abituato a complimenti ai giocatori che all'inter hanno fatto del matto eh senti vi parte tizio e poi vabbè io sono veramente uno stimatore di terrible west oh ancora sti cessi mi devi nominare comunque non è stato io a nominarlo per primo io non l'ho nominato west perché devi nominarsi a gente perché ci fa ricordare gli incubi mi disse ho cancellato il messaggio ma tu che ne pensi che lui stima west che è il tuo jack che vorrebbe avere un incontro particolare con west è vero ma raga la partita stava già finendo stavamo già segnando c'è già un call manca ho iniziato cosa hai pensi coni che sei dell'elita anche tu come noi cosa hai pensi di jack che stima in maniera fisica west oddio ma secondo me la firma è lacquerata ma la firma l'ha carato dopo il cambio di ruolo ah dice è meglio degli altri quindi va bene jack ma sei tu o ti ha carato no sono io ma ormai oi jack e l'altro giorno ieri si era il podcast non credo ah quindi sei un bambino simpatico e non puoi si bannare ma non sei un bambino non farti bannare mi sa che è più probabile che sia io quello che è dai tranquilli eh no perchè l'automode mi ha bloccato una parola ah ma quello non siamo noi che lo imposti ha e lo so l'automode lo so anch'io lo so volevo dire una cosa non fate troppe battute sulla voce di tizio che un giorno aveva una bella voce maschia profonda ma sembro mi hanno detto che sembro la voce di coda e fratello orso no non ho guardato la voce di chloe sandi van di west è meglio degli altri ho capito ehm vabbè ragazzi io comunque properrei un bando per chi mi dice che sono un piccino properrei un bando ora se se fisicamente se fisicamente se fisicamente ti piace west o ognuno ha i suoi ma sai cosa mi piace a me a me mi piace quella roba quella roba quella roba quella roba la roba lì ah ok ma quella che si 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 mette sul tavolo allargata ah eccola la quello piace un po' a tutti quello piace a tutti ti ha cancellato il messaggio che io no no grazie fisicamente no ecco coi già vedi io non ho capito cos'era sta cosa che fece la tizia ma forse non si può dire la f la f la f di cosa eh roba che piaccia meno male non ci sono problemi non ci sono problemi non ci sono problemi non ci sono problemi anzi siamo fisicamente no xd no è west no west ah ma ah ma i coin si ah ma i coin ma hai detto che coin e coin ah a meno ma tu non lo segui non lo segui ancora? seguilo eh ah so fici? lo segui su un aspetto fatemi giocare però lo sai vai vai eh west è il sogno di jack oltre a quello con la v ok l'ho seguito l'ho seguito mentre stavo imparando grande grande lo citi sempre ragazzi è un continuo coi 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 quello v va posso farla ancora una volta sono l'unica donna in chat sì mi è suonata la tromba sì ancora sì sei l'unica donna in chat eh lo so ottimo bene lo so ele lo so ele però non è una brutta cosa eh anzi tanto tanto sei apprezzata ormai sono abituato di tizie che poi mi scrivo in privato ormai è vero io confermo che è già se diventa minamentizia no davvero a Klai gli scrivono davvero io confermo io confermo tutto ciò che dice Klai è vero non è non è non è non è spaccata poi mi scrivono in privato per dirmi le loro cose ma chi se ne frea ma chi è sta gente ma si ma che mi frega con tutti i cazzi che ho io per la testa cazzo i guai che ho io e te i guai che ho io e li vado a pensare quei degli altri di come sono cresciute da sole senza ride a livelli esponenziali si se poi ti raccontano come hanno fatto a fare quelle cose ti raccontano tutti no raccontano di come sono cresciute a spettatori negando di aver avuto ah cos'è che diventa gelosa no io non me frega niente a me non importa nulla me frega proprio niente ora ti scrive ti scrive vaneggio di scrivere no 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 si può samuaggia c'era un disturbo stava dicendo samuaggia ovviamente samuaggia di cosa io devo andare sono monete allora sono monete che si riscattano andando nelle docce delle posizioni nooo c'è che per cortesia per cortesia però scusa come fai a sapere questa cosa nooo vabbè la sapevo questa cosa con West eh nelle docce con West non so se è il caso ma il mio padre sta facendo crack un problema il mio padre fa no fa bene è l'ora di dormire fa bene per il crack al controllo ah io intanto entro il crack è quello che mi dovrei fare io adesso per sopportare tutti quanti angolo del videogame mi sono unito comunque angolo del videogame a che cosa ti sei unito? al discord ah che non uso mai ok oh mi sono unito grazie ma io non ci sono mai ah 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 intanto te ho detto auguri e intanto in generale che coini ha scritto auguri ti ho detto auguri e coini ha scritto auguri Aguta ah 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 buonanotte purtroppo oppure in certe cose ho bisogno di proprio di sostanze per andare avanti Eifficolo Ian e se vuoi ti mettiamo una lungucia a che hoia io sento veramente crack però Quello saranno le mie cose che si sta rompendo Ma voi sapevate qual'era la mia toneria in GTA 4? Eh Era la vecchia che cadeva dalla scala La vecchia che cadeva dalla scala Alla fine l'ho recuperato GTA 4 Buono buono Dopo il tappo di Xbox Ultimamente ho pensato che quel suono fosse clà con una moglie molto anziana A te ci scherzi ma io lo farei veramente Se becco una rica che mi lascia tutto in eredità poi la butto giù dalle scala Così mi è eredito tutto Qua lo dico Twitch Non me ne frega un tubo Potrebbe essere il mio veramente lavoro Il cacciatore di moto Un po' come la nostra amica Anna Maria Non ci ha guadagnato niente Non ci ha guadagnato niente Non aveva più lo sveglio Non aveva più lo sveglio in casa No ma io ci guadagnerei i soldi No ma lei si Si ha guadagnato che non c'era più rumore Non ci ha pure un piccolio Eh ma in effetti In certi contesti Farei anch'io Non insegnare cose che non vanno bene ai ragazzi Ho capito ma è un mestiere È un lavoro questo Ma che cavo Facciamo l'ultima No immagina non lo so Ad avere un figlio come tizio Di sera No Ma scusa ma le autostrade sono accessibili di notte nel caso Nel caso Aspetta mettete pronto Ah ma perché non stiamo partendo Perché c'è qualche cretino di avversario Fabri che così me lo mettano pronto Scusa ma che tu sappia le autostrade sono notturne vero Nel caso abbia Io non convinto Eh ma è un lavoro che cavo Non mi posso mica dire niente Ready? Eh ready boh Facciamo Non posso scrivere qualcosa no Ho paura che c'è roba bannato Si ride a chi è lady Si si volevo ride a lei dopo Ah si si è live Intanto sto moderando Ce la vedi? Eh si per quello che Si sto moderando Ma si Ma si vedi anche i coni Vedi mi da retta con questo mestiere Intanto io In caso ne facciamo aprire una Eh io avrei un paio di nomi da metterci Tipo che le abbandoni Autostrada Mentre me ne ho Un paio Un paio Live URL Abbandoniamo gente in autostrada Un paio Un paio di nomi Mi ho mascherato Mi ho mascherato Guardi lavoriamo lì In una strada molto malfamata Eh guarda I peggiori autostrade di Caracas Lascio nella giungla Nei boschi Andiamo Ma cos'è sto c'è di Genova? Ma si si mangia bene No ma vedi che Guarda prima o poi Ti faccio prendere una casa lì a vivere Comunque Eh si si Ha un po' di problemi con l'audio lady Quindi non so Ma non è una cosa nuova Ma perché stacca? Ma di se rimane in live No no ne ho iniziato ora Eh però Il microfono non basta Ecco ora vado Ah ma di di rimanere in live Perché altrimenti non riesco Troppo tutto Dide che la raggiungiamo Si appena la facciamo Raggiungiamo Mi ha detto che la raggiungiamo Ho detto Si 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 Eh che palle oh Stiamo perdendo Comunque boh Ho deciso Ho deciso Che immagini mettere Per i ride Ci metto un Kogan Che fa con la roba dell'orecchio La musica Ma cos'è Oh ma mi è arrivato Un messaggio in post Ecco ora vi leggo Da parte Non so se di Twitch Che non ho ben capito Ora ve lo leggo Non so se si può dire La Twitch Ciao Angola Video Gay Sono Angela E E sono Vicepresidente del reparto Di fiducia e sicurezza Presso Twitch Per un anno Ho guidato il team Di persone In cui obiettivo Principale Mantenere Twitch Un luogo accogliente Sicuro Minchia ci stai proprio Facendo un bel lavoro Proprio Grande proprio Bava proprio Che ti dice Il dialogo aperto con voi È un elemento chiaro per Twitch Anche il team È di fiducia e sicurezza Col 2022 Ormai alle porte Volevo fermarmi un momento Per riflettere Sull'anno appena trascorso Ricapitolando Alcuni dei aggiornamenti Per la sicurezza Più utili E importanti Del 2021 Desideravo anche Darvi un anteprima Di ciò che potete aspettarvi Quest'anno Da me Dal mio team La lettera completa Disponibile nel centro Sicurezza Grazie per Qual è il centro Sicurezza Scusa Quello quando mandi Inoltre le cose Quando fai Dei reclami O che avvisi O assistenza Centro sicurezza Assistenza Grazie per l'impegno Costante per rendere Twitch un luogo migliore Non vedo Di affrontare Un nuovo anni Insieme Ma fammi Cestinare Sto schifo Scusa No ma Alcune volte Tipo va Scatti L'audio Però c'è L'idea Ah vabbè L'importante C'è Ma hai capito C'è Questa persona ci scrive a tutti Ma hai un messaggio di default Dicendo che hai fatto un bel lavoro Con la sicurezza Ah Un buon lavoro È venuto una volta carato Sistema Per un buon lavoro Sì ora devo vedere Una Una Io che sono dal 2017 Ho visto un sacco di Ma anche io sono dal 2017 Su Twitch Che ti credi Sì E ho visto Sai quanti anche raggi Ma infatti Ho detto il primo di quest'anno Che colasso Sgranchirsi e bere Ok Però se dicono che La signora Angela Ha detto che Angela M Non è Angela Merkel Ma guarda che si può dire Merkel Si può dire? Angela Merkel No non è Angela Merkel Ha detto che loro hanno fatto Il possibile In sicurezza Mi sa che abbiamo un'altra Idea di sicurezza Mi sa che abbiamo un'altra Cyber security Grande Angela Se vogliamo bene Angela Grande Angela Ciao Angela Li salutiamo Non volevamo parlare male di voi Ma Anzi noi preferiamo parlare Di come buttare Vuol dire Ti abbiamo molto apprezzata Come interpreti di Lara Croft Grande Angelina Si si Angela Gioli grande Ma conosci anche tu Lara Croft Si No guarda E' stato C'è un film cresciuto Con la Cari ci siamo cresciuti Con la Rai Chialara Abbiamo avuto una sorta Di relazione A distanza Poi quei film Di quella topona Della Giolina Ragazzi Non ne parliamo neanche Come facciamo a non conoscere Lara Croft Scusate Della nostra generazione Di tutte le generazioni Perché in generazione Play 1 Play 2 Play 3 Play 4 E anche Play 5 Mi sa Fra un po' Si Però Guarda Siamo nel 2022 Non so neanche invitare No non è che non so farlo È che non ho voglia È una cosa diversa Allora E se uno vuole giocare con te Non c'è Jack C'è sempre io Ci sono anche quando non c'è E se Jack va in vacanza Jack non va in vacanza Jack non va in vacanza Ti dico Cazzi suoi Jack se Si distruggi casa Non è un mio problema Non è un mio problema Se uno non può giocare con me Io ti sono Io ti sono Io ti sono Io ti sono Vado a casa sua E uso il controllo Non è un problema Non ho problema Non è un mio problema Sinceramente Io gioco Qualcuno vuole giocare Ci provo Se poi non ho voglia E se vuole giocare con qualcuno Non può invitarlo Non c'è voglia In altri giochi E' un po' macchinoso Non è una cosa Non è proprio automatica Non è come tipo Gli altri Che ci metto poco Anche Warframe È un casino In Destiny A come si invitava L'ha imparato lui Non io In Destiny 2 Sì sì Destiny l'ho imparato io Anche Warframe Perché Warframe è un po' Un casino È un altro sistema Ma d'invito Però l'ho imparato te Però l'ho imparato te Esatto L'ho imparato io Poi Jack passi da me A mangiare Ti cede Ma lui deve venire a Genova Ha detto che si fa un mutuo Per comprare i giochi Si fa un mutuo Per comprare il biglietto Ha detto Dove siamo andati oggi Era a comprare il gioco Ha detto Che si fa un mutuo Jack Per comprare Ma dai Si passa per San Pier D'Arena Da quale parti No Lì c'è un altro GameStop Lì c'è un GameStop No GameStop Non vengo il giorno A fare un GameStop Però non ci Però non No No Che sfiga Ma il caso Deva chiudere così In perdita No dai Facciamo un'altra Che dove rinciamo Soldi suoi Ah beh Quello Certo Si mancherebbe Tanto io ci vado A prendere i miei giochi Ah vedi invito Sì sì Vieni dai Eh sì ma lui Vedi C'è anche i giochi Della Wii Quindi lui viene Si compra Si fa un bel sacchetto Di quelli Belli grandi Quelli della rumenta E lo riempi di giochi E va a casa Con un sacchettone Di quelli A spazzatura Pieno di giochi Così Così si vede Piacerebbe Questo qui Porta in giro A spazzatura No Barte ride No aspetta Io odio perdere Quindi bisogna vincerne una Odio perdere Bisogna chiudere in bellezza Quindi cerchiamo di impegnarci A vincere Ah beh io ci mi impegno Ci faccio possibile Possiamo chiedere che mi cambio l'auto Si Ah si andiamo a menu All'aspetta scusate Tanto io devo riscattare un po' di ricompensa Finalmente Eh si andiamo avanti finché non vinciamo So stufo Si comunque è a posto Le hai detto Ok ora andiamo da lei Tanto poi dopo vado a cenare Quindi Si Oh ho sbattato una sfida Preparo lo shout out Io preparo Si quando ci andiamo o si? Da lei Ah di là Si non il mio Ma non ha senso nel mio Scurro Eh si io modero anche lei Io modero Ciao Ciao coni Grazie per essere passato Grazie Grazie Da quando io Hai presente che quando Lo sai Eravamo sul discord Altrettanto Ho visto che hai fatto il discord Non sapevo che ti aveva fatto modo Come un bel propulsore Io comunque ho quasi tutte Io ho quasi tutte le auto Io comunque Questo quella di flash È tipo una roba esclusiva Quella lì di flash Avevo le ruote di flash Erano esclusive Con un codice Bella è questo qua Quando vuoi Tizio dicevo Sto cambiando solo il turn Un po' di roba Il turn Eh si L'idea di fare il cacciatore di dote Non è male Non è male Non è male no Così avremmi soldi Lo so che Ele non ha prova Ele non ha prova Purtroppo Vabbè però Però vuoi mettere Il suono simpatico Che c'era la mia suoneria EGT a quadro Vai metti pronto Vai 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 Ci sono Una voglio vincere Metti pronto Dai lui Già giusto Ma che vuoi dire Stiamo su Fortnite E' un po' come Guarda Ora vado alla ricerca Di qualche ereditiera Io non ho mai E lo so E poi Tipo con le gemelle Le Hilton Come si chiamano No Hilton Paris Hilton è miliardalissima Ma non lei Le Olsen Ma le Olsen Ma sono le poracce Ma come povere Non è una nostra persona Ma Meglio la Hilton La sorella si è sposata Un Rockefeller La sorella si è sposata Un Rockefeller O Rothschild Non so Ma la Hilton Non è In età Da spiattare La Hilton è giovane Beh può sempre cadere Dalle scale Giusto Sì Prima mi faceva Che poi io ho visto Il documentario Di questa qui E' una paranoica Minchia Giuro che ci tirerei Il collo Se fosse insieme Ma Certamente paranoica Guarda Ah 800.000 computer 800.000 computer A ogni fidanzato Cambia computer Non so perché Tipo C'ha le telecamere In casa sua Che guarda Se Ma Ma Vedi queste sono le cose Dei ricchi Cioè Biasamente si interessa Che i ricchi Sono fuori di testa Sono pazzi Sono I soldi Danno troppo alla testa Eh so È un problema più tizio Tizio è molto ricco Ragazzi io faccio Tipo Ah tizio è ricco Sapete chi faccio io Ah Una persona ferma Che all'improvviso Su 9 Ecco No ma che senso Non so Via Questo è il vero Questo è il vero Questo è L'uccello È lui Questa qua è la potenza Dell'Inter Eh sì Questa è la potenza Dell'Inter Però Io ho dedicato Io dedico il mio gol Che ho fatto Avantesa Da Minchia Adesso tira Ora perdiamo Ora perdiamo Ora la perdiamo Te l'ho detto Ha nominato quello lì Ah oi Aziono Aziono L'auto Baccio Menz Ok Menz 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 Va bene Ma Oddio O stai facendo La citazione a Zeb Sto facendo Menz Sto facendo in moto Menz 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 Comunque è bella l'idea Già che dai Vieni a Genova che ti porto a spendere Ti Oh ma c'è No no A Genova No 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 Eh beh beh Vi baciato a Genova Allora Io Io abito Sì sì Guarda che io Io lo porto a spendere Un suo negozio Quanto è chiaro Quanto chiacchia Ti Ma tu sai che io Io Sì ma non urlare Non urlare Che mi dà fastidio Va bene Lo so che si dà fastidio Ma no Ma mi dà proprio fastidio In generale Abiti vicino a tizio Io no Perché come abiti vicino a tizio In che senso Di Torino Ah no Si dici dovevo essere di Torino No dove è A Napoli dov'è Io non mi ricordo dove sono A posto Così qua sono i primi segni Questi qua sono i primi segni Una città con centomila persone Cavolo non è che vanno a beccare Eh non me lo ricordo Eh io non lo so Due anni Sto usando un telefono Ma ho due anni Non mi ricordo dove abito Così qua sono i primi sintomi Della 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 Ma chi è che c'è a Rivarolo Ma guarda che è un quartiere nostro questo Oh cosa dico Ma non me lo fossi È un quartiere di Genova Rivarolo È anche di Torino Ah si Eh perché c'è uno che ha fatto delle cose buone In che senso Ragazzi io spicco il volo T'ha fatto delle cose nelle docce Diciamo che tizio No in attualità non si può dire Ma Rivarolo cavolo Lo conosco 12 anni fa Avevo conosciuto una tipa Di Rivarolo Ma vabbè perché è una tipa Una tipa Ehm Perché è una tipa va bene Ma che ti dico C'è la sei Eh l'hai fatto Quella Non si può dire Non si può dire sta roba Lo so però Sì o no l'hai fatta Cioè io posso perché posso Voi no E poi E poi boh però Non l'ho più controllato Allora avete fatto quella cosa Dopo Se senti a cena No Posso Posso sparito io E' sparita lei Ma perché l'avranno la sequestrata Perché saranno dei quartieri Mastro è molto casino Perché saranno dei quartieri Sceni Per quello E quindi E quindi L'avranno sequestrata No ma cosa c'è i soldi No ma l'hanno sequestrata una donna No non si può sentire Non l'hanno sequestrata nessuno Ah direi che l'hanno sequestrato Mica l'ho detto la donna Il numero Non lo so Ma guardate io Nicolando guardate Io eravamo attaccati Si vede Scusami hai detto Che Ma come si chiama sta tizia Che può darsi Che la vado a cercare Benz Si può dire il nome Ma se il nome è Serena Oddio E' un nome che detesto Che detesto A A A Oh buongiorno Buongiorno Serena Oggi sei serena Bannato Sono tizio No non sono serena Sono giuvanti Mi puoi confermare Ti sentiamo tizio Vantini e volume vasto Eh si anche io E' da fastidio Ma a me Ma ce lo fa Ce lo Ce l'ha Mi confermi Che non hai una mamma Di nome Teresa Di serena Ma aspetta Aspetta Ma tipo Tipo dice Ci sei No Ci sei serena No non sono serena Sono Giuseppe Sono Giuseppe Ma che trash Mamma mia Ma siamo calati Moltissimo In qualità Non hai una mamma Di non mettere Serena Comunque Mi confermi Fa cosa Tranquillo Ho l'incubi Non sono Non male Ok sono tranquillo Mi è partito il mens Di Zeb89 Di nuovo Scusate Zeb 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 che ora Fara live in inglese Se scrivi in italiano Ti banna Se scrivi in italiano Ti banna Chi mi scrivi Ciao Ello Come Come Stai Ogolder you Quanti agli hai Impossato Si dice Lash Bun Milametizio Ma perché Ma poi 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 I bot Per le robe Donazioni Mi traduzione Tipo Milametizio Mi traduzione Tipo un follow Mi traduzione Milametizio 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 Un imbecile Il bot Un imbecile Lo so No lui Lui che fa ste robe In inglese Che poi Banna con gli italiani Si va bene Ma a me non mi è mai piaciuto Solo perché portava i giochi brutti Mi piace Quelli si mi piacciono Quei giochi brutti No no Abbiamo vinto Quindi ora Ok Jack Fai partire ride Che abbiamo vinto Va bene Vado vado Abbiamo visite oggi Non era la prima volta Però va bene Ok Fai partire questo Intanto facciamo partire ride E vi ringraziamo Perché credi che sono passati Domani facciamo ride redemption Quindi siamo un po' più tranquilli 993 Com'era 99 Cosa? Allora te lo dico io Allora E allora Mi ascolti? Si Allora aspetta te lo dico Allora No ma l'ho trovata Dai L'ho trovata L'ho trovata L'ho trovata L'ho trovata L'ho trovata Ok ragazzi Ora Facciamo un bel ride Vi salutiamo Grazie per il sub Eccetera eccetera E vediamo l'appuntamento Domani Sempre con ride redemption Addio Ciao 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 Battito Ok Mamma Mi c'è un mal di testa Ragazzi Ok Hai fatto partire? Eccolo Eccoci qua Andiamo a salutare la lady Grazie per il ride Aspetta Hai staccato la lady Sì 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 Ciao 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 Ciao